Eccoci qua, buonasera, è un'altra giornata di guerra, la 24esima giornata di guerra. È la 24esima giornata in cui si sfidano a distanza direttamente anche Putin e Zelensky. È la giornata in cui ci sono molti elementi da raccontare, in cui ci sono contemporaneamente segnali di morte e segnali di trattativa. Insomma, quello che abbiamo visto, quello che sappiamo e quello che è già successo altre volte, che però raccontiamo anche alla luce di nuovi fatti. Intanto ha cominciato, per primo, ve lo faccio vedere subito, prima di parlare con i nostri ospiti. Ha cominciato subito di nuovo Zelensky con un messaggio molto, molto chiaro. Vediamolo subito. Buonasera a tutti. Solitamente in questi giorni si dice è arrivata la primavera, oggi però diciamo è arrivata la guerra. Sicuramente sconfiggeremo tutti, ad ogni costo, perché siamo un popolo libero in un paese libero. Oggi i funzionari di governo hanno preso la decisione di riavviare completamente il servizio doganale, di portare cargo e materiali per la difesa, per la nostra gente in Ucraina, nel modo più semplice possibile. Abbiamo eliminato tutta la burocrazia, IVA, dazi doganali. L'obiettivo è chiaro, far sì che il fattore umano non ostacoli una veloce fornitura dei beni che sono essenziali ora. Il Presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefanskiuk e i comitati stanno lavorando per garantire il sostegno ai deputati per le innovazioni. Lo voglio sottolineare, questa decisione è necessaria per la difesa del Paese, per garantire una vita normale durante la legge marziale. Esorto i deputati a non speculare su questa questione è a beneficio del nostro Stato, non del governo o dell'opposizione. Dobbiamo lavorare tutti insieme per l'Ucraina, per la nostra gente. Dobbiamo pensare alle pubbliche relazioni post-vittoria. Un'altra importante area del lavoro governativo è aiutare gli ucraini che sono stati costretti a fuggire dalle loro case per via dell'ostilità. Ho ordinato al governo di sviluppare un programma comprensivo che supporti queste persone, la nostra gente, tutti coloro che hanno perso la casa per via della guerra. Abbiamo già delineato questo programma, la prima componente è quella finanziaria, il supporto statale per tutti gli sfollati, adulti e bambini, sostegno governativo per l'occupazione dove risiedono temporaneamente, così che ogni persona, ogni famiglia abbia un sostentamento di base. La seconda componente riguarda le case. Il governo sta preparando proposte concrete per dare rifugio agli sfollati interni e sta anche organizzando la ricostruzione delle case distrutte durante la guerra. La terza componente non è meno importante, il sostegno alle famiglie che hanno dato rifugio alle persone che sono fuggite dalle aree di ostilità per una residenza temporanea. Come minimo, loro verranno rimborsate i costi delle bollette relativi al soggiorno degli sfollati. Il primo ministro dell'Ucraina, Denis Shmiel, spiegherà presto i dettagli di questo programma olistico a supporto dei cittadini. È stato istituito un quartier generale per regolamentare tutte le questioni relative alla fornitura di aiuti umanitari all'Ucraina. Sotto la presidenza del capo dell'ufficio del presidente Andri Yerma, che è stata tenuta una riunione con gli ambasciatori ucraini per intensificare la fornitura di beni umanitari all'Ucraina, soprattutto per aiutare gli sfollati interni. Ho anche ordinato al governo di lavorare insieme al comitato della Croce Rossa internazionale per aiutare i cittadini che si trovano all'estero. Dopo il 24 febbraio hanno bisogno dell'aiuto dello Stato e di organizzazioni internazionali. Oggi ci sono sette corridoi umanitari in Ucraina, sei nella regione di Sumi, uno nel Donex. Oltre 9.000 persone sono state evacuate da Mariupol, che è sotto assedio. In totale oltre 180.000 ucraini sono stati salvati dai corridoi umanitari. Centinaia di tonnellate di beni essenziali sono stati forniti, ma gli occupanti continuano a bloccare la fornitura di aiuti umanitari alle città sotto assedio in diverse aree. È una tattica intenzionale. Hanno l'ordine di fare tutto ciò che possono per far leva sulla catastrofe umanitaria nelle città ucraine, in modo da farle cooperare con gli occupanti. Questo è un crimine di guerra e saranno ritenuti responsabili al 100%. Ogni russo che dà questi ordini e ogni soldato russo che esegue questi ordini sarà identificato e riceveranno un biglietto di sola andata per l'AIA, dove si trova la Corte Internazionale di Giustizia. La gente viene ancora salvata dalle macerie del teatro, distrutto dagli occupanti in Mariupol, dove i civili si nascondevano dagli bombardamenti e dalle bombe russe. Oltre 130 persone sono già risalite in superficie, alcune sono gravemente ferite, ma al momento non abbiamo informazione circa le vittime. Grazie al coraggio e all'addestramento professionale delle forze armate ucraine, le forze occupanti sono state fermate in quasi tutte le direzioni. I combattimenti vanno avanti nella regione di Kharkiv, vicino ai Zoom soprattutto. Le truppe russe ricorrono a persone prese dai centri di addestramento, non sono preparate, contingenti non preparati, gente che non durerebbe mezz'ora in battaglia. Nella regione di Kiev, dei Sumi, nel sud del paese, il nostro esercito ha fermato gli occupanti. Il piano iniziale dell'armata russa di prendersi il nostro Stato è fallito e sembra che non sappiano cos'altro possano farci. Sembra che i loro comandanti non siano in grado di offrire ai loro leader politici nient'altro che tattiche sbagliate e crudeli, mirate allogorarci, allogorare l'Ucraina. Attacchi costanti sulla popolazione civile, società pacifiche, gente, bambini, missili, bombe, bombardamenti da grada, gli uragan, nulla, ma solo distruzione di infrastrutture non militari, edifici residenziali, ospedali, scuole, chiese. Ma questa tattica della loro armata peggiora solo la situazione per la Russia. Ci saranno ulteriori sanzioni, sempre peggiori. E questo incoraggia nuovi paesi a unirsi alla coalizione antiguerra. Ci permette di unirci a quei paesi che finora sono rimasti neutrali e mettere ulteriore pressione sulla Russia. Quindi i negoziati sulla pace, sulla sicurezza per noi, per l'Ucraina, sono importanti e non possono essere ritardati. Sono l'unica occasione che ha la Russia per ridurre il danno dei propri errori. Noi abbiamo sempre insistito per i negoziati, abbiamo sempre offerto il dialogo, offerto soluzioni per la pace, non solo durante i 23 giorni dell'invasione. E voglio che tutti mi ascoltino, soprattutto a Mosca. È ora di incontrarsi, è ora di parlare, è ora di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina. Altrimenti le perdite della Russia saranno talmente grandi che non basteranno diverse generazioni per riportare tutta la normalità. Tante parole sono state dette a Mosca oggi, nell'anniversario dell'annessione della Crimea. C'è stato un grande evento e vorrei soffermarmi su un dettaglio. Si dice che hanno partecipato 200.000 persone circa nell'evento a Mosca. 100.000 per strada, circa 95.000 allo stadio. Grosso modo lo stesso numero di soldati russi schierati nell'invasione dell'Ucraina. Immaginate 14.000 cadaveri e decine di migliaia di feriti, tutti in quello stadio a Mosca. Ci sono già tante vittime russe per via di questa invasione. Questo è il prezzo della guerra ed è successo in poco più di tre settimane. La guerra deve finire. La proposta dell'Ucraina è sul tavolo. Nei prossimi giorni continuerò a fare appello alle nazioni del mondo per la pace in Ucraina. Il mio appello alla Svizzera è il prossimo, alla gente e allo Stato. Poi parlerò anche ad Israele, Italia e Giappone. L'intero mondo sentirà la posizione dell'Ucraina. L'intero mondo sostiene i nostri difensori, i difensori dell'Ucraina. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine nei confronti di ognuno che sta difendendo la forte città di Mariupol, la nostra città eroica che sta attraversando una grandissima catastrofe, la più grande nella sua storia, nella storia dell'Ucraina. La 36esima brigata della Marina, il 501esimo battaglione della Marina, il primo battaglione della Marina, la 12esima brigata della Guardia Nazionale, è un distaccamento separato Azzol. Sono grato ad ognuno di loro, ai difensori di Mariupol. Sono grato a tutti coloro che stanno difendendo l'Ucraina. Alla richiesta del comandante in capo delle forze armate ucraine ho deciso di conferire il titolo di eroe di Ucraina al colonnello Anatoliovic, comandante della 36esima brigata della Marina, e al maggiore Enna Diovic, comandante del distaccamento separato speciale Azzol, per il coraggio per le azioni efficaci nel rispingere gli attacchi nemici, per la difesa della città eroica di Mariupol. Gloria ai nostri eroi, gloria all'Ucraina. Ecco quello che ha detto con chiari riferimenti anche alle parole di ieri allo stadio di Mosca di Putin, Volodymyr Zelensky, che poi poco fa è tornato in qualche modo a manifestarsi attraverso delle fotografie postate sui vari social network, le possiamo immagino vedere, varie fotografie molto eloquenti, spero si possano vedere, che sono foto di distruzione, eccole qua, in varie realtà del suo paese e con queste parole, se la Russia non viene stoppata adesso, se la Russia non viene punita adesso, altri aggressori nel mondo inizieranno altre guerre, in differenti regioni del mondo, in differenti continenti, ovunque qualcuno sogni di conquistare i propri vicini, il territorio dei propri vicini. Come a dire, attenzione, oggi tocca a noi, ma la campana suona per tutti, per usare una famosa guerra internazionale, quella di Spagna degli anni 30 del secolo scorso, e la famosa poesia di, spero, di Walt Whitman, se non ricordo male, che poi fu anche il titolo di qualcosa di importante per la letteratura e anche per il cinema. Ebbene, fino a oggi, nei primi 23 giorni di questa nostra impegnativa trasmissione ogni giorno della guerra, abbiamo avuto ospite, come sapete, Dario Fabri. Oggi pure, c'è anche oggi Dario Fabri. Pensavo stesse annunciando qualcosa che non so. Buonasera. Buonasera. E però da ieri c'è anche transitoriamente, perché tornerà in Ucraina molto presto, Francesca Mannocchi. Buonasera. Come avete visto, la situazione resta pesante. Dalle parole di Zelensky è evidente. Zelensky offre la possibilità di un incontro al vertice, un incontro di pace, ma non c'è nessuna condizione. È il primo a dirlo. E attraverso poi queste fotografie, queste parole, in qualche modo disegna, dipinge, indica la Russia come il cattivo della terra, da cui potrebbero prendere ispirazioni altri cattivi per fare la stessa cosa, conquistare il territorio del vicino. Ebbene, diciamo che su un livello molto più chiaro e molto più diretto, ci sono minacce che riguardano anche noi da oggi, come sapete. Sentiamo insieme, perché lo abbiamo ripescato, la nostra redazione ha ripescato il testo preciso di quello che ha detto un alto dirigente russo riguardo ai rapporti con l'Italia. Guardate. Nel 2020 la Russia ha fornito un'assistenza su larga scala all'Italia nella lotta alla pandemia. Attrezzature speciali, ventilatori, mascherine e tute protettive sono state inviate nelle regioni settentrionali del paese, ora Roma, e in prima linea tra i paesi dell'Unione Europea che hanno adottato sanzioni contro la Russia. Qual è il suo commento? Infatti, con l'accordo raggiunto a livello di Presidente della Russia e Presidente del Consiglio dei Ministri nel marzo-aprile 2020, all'Italia è stata fornita un'assistenza significativa attraverso il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Industria e Commercio e il Ministero della Salute della Russia. A proposito, una richiesta di assistenza alla parte russa fu inviata allora anche dal Ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, che oggi è uno dei principali falchi e ispiratori della campagna antirussa nel governo italiano. Vorrei sottolineare che nell'inviare una missione umanitaria la Russia è stata guidata non dal desiderio di ricevere dividendi reputazionali o di politica estera, ma da un senso di compassione, un desiderio di aiutare il popolo italiano in uno dei momenti più difficili della sua storia post-bellica. È deprimente che ora, sullo sfondo dell'isteria antirussa, le autorità italiane abbiano improvvisamente dimenticato tutto, i trattati e gli accordi bilaterali esistenti, la natura speciale dei nostri legami, la ricca storia secolare di relazioni e tradizioni forti, l'esperienza di successo della cooperazione, il significativo capitale accumulato di fiducia reciproca. Ci aspettiamo che a Roma, come in altre capitali europee, tornino comunque in sé e ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le loro aspirazioni di politica estera pacifiche e rispettose. Questo sentimento antirusso, al limite del vero e proprio razzismo, cederà il passo a toni più moderati e equilibrati per garantire la sicurezza e la prosperità dell'intero continente europeo e non solo di una parte di esso. Ritiene che la Russia interromperà la fornitura di idrocarburi all'Italia in risposta alle sanzioni occidentali? La questione della risposta a misure restrittive di portata senza precedenti e illegittime dal punto di vista del diritto internazionale è in fase di elaborazione da parte del governo della federazione russa. Mosca non ha mai utilizzato le esportazioni di energia come strumento di pressione politica. Le compagnie energetiche russa hanno sempre adempiuto pienamente ai loro obblighi. Continuano a farlo anche adesso. Sappiamo che sono molto preoccupati per il futuro di queste consegne. Tenuto conto della significativa dipendenza di Roma dagli idrocarburi russi che raggiunge il 40-45%, il rifiuto dei meccanismi di trasporto dei vettori energetici avrebbe conseguenze estremamente negative per l'economia italiana e per tutti gli italiani. Le sanzioni non sono la nostra scelta. Non vorremmo che la logica del ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, che ha dichiarato la totale guerra finanziaria ed economica la Russia, trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili. Queste le parole di questo alto funzionario del ministero degli esteri russo, che si chiama Alexei Panomarov. Costui, diciamolo, come sentite con un tono molto duro e un po' ricattatorio, dice ma come? Proprio voi? Noi vi abbiamo mandato personale, mezzi, aiuti, mascherine e tutto quanto quando c'è stata la prima emergenza due anni fa della pandemia e voi ci ringraziate così? Voi ricambiate con un atteggiamento arrogante, ostile, da falchi, da guerra fondai attraverso il vostro ministro della difesa Guerini? Attenzione, perché noi possiamo farvi anche molto male dal punto di vista dell'interscambio e della rottura dei rapporti. Questa è la sostanza, Fabri, ed è ovviamente un pochino wrestling diplomatico, però sono parole fuori misura. Sono parole molto dure, su questo non c'è dubbio. Per l'altro sono parole di chi, come sempre succede tra italiani e russi, loro che conoscono meglio noi di quanto noi non conosciamo loro. Se succede spesa, a me è capitato anche personalmente di assistere ad incontri anche ufficiali tra delegazioni italiane e russi e loro di noi sanno tutto, noi non sappiamo mediamente niente di nessuno, tanto meno dei russi. E da queste parole, quando si sente dire noi vi possiamo colpire sull'interscambio, sa che il nostro paese è un paese profondamente economicistico, quindi quando sente questo tipo di minacce tendenzialmente si ritrae. Allo stesso tempo c'è da dire che la Russia pretende un po' troppo da noi. Perché pretende un po' troppo da noi? Perché è vero che noi utilizziamo la Russia da sempre come sponda, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dal post-Seconda Guerra Mondiale in poi, per ragioni ideologiche alternative, prima dal Partito Comunista, adesso i partiti di destra. La politica segue la strategia in maniera inconsapevole, quindi crede di vedere ideologie. In realtà l'Italia ha proprio necessità da sempre di avere nella Russia una sponda. Però siamo dentro il campo americano, edulcoriamo, non vogliamo definirci satelliti che ci fa paura, siamo alleati degli Stati Uniti. Quindi non è che abbiamo un margine di manovra assoluta. I russi che sanno stare un pochino al mondo da qualche secolo tutto questo lo sanno. Quindi è chiaro che è anche un blef. Noi, anche se, in questo caso schierarsi è più semplice del solito, ma anche se non avessimo voluto, non è che possiamo fare come vogliamo. In realtà l'abbiamo raccontato anche qui. Il governo Draghi ha provato a ricavarsi un margine di manovra, stavo spiegato, non esattamente in forma troppo urbana dagli americani che non si poteva fare. Ultimo asterisco sul loro aiuto durante la pandemia, che può essere anche interpretato in questa maniera, ricorderanno i nostri telespettatori, i camion che da pratica di mare, sempre pratica di mare, sbarcarono con la scritta in inglese, from Russia with love, dalla Russia con amore, poi attraversarono tutta la penisola e arrivarono in Lombardia. Sì, è stata anche una forma d'aiuto, però è stata una forma d'aiuto molto interessata, perché ormai a Arcinoto all'epoca i russi studiarono la prima variante, non neanche lo sapevamo, loro sì, non sapevamo di essere diventati ai noi teatro della prima variante del coronavirus che proveniva dalla Cina, loro lo capirono prima di noi e la studiarono in Lombardia per sviluppare poi, come ripeto, ormai a Arcinoto il loro vaccino Sputnik. Quindi per carità ci avranno anche aiutato, ma ci hanno anche utilizzato legittimamente per le loro ricerche scientifiche. Diciamo che ci hanno aiutato come tanti altri paesi e comunque non è che noi, siccome vi abbiamo aiutato, noi adesso invadiamo l'Ucraina e voi state buoni. Questo mi pare evidente, esatto, perché in questa occasione poi scegliere anche più semplice del solito, però la Russia A pretende qualcosa da noi che non possiamo darle, visto che siamo in un altro campo più o meno consapevoli, ma questo è B, all'epoca ci hanno aiutato, ma è servito loro anche per sviluppare il vaccino, quindi voglio dire... Insomma, la verità vera, Fabri, è che a me pare che le parole di oggi intanto delimino anche una nuova fase, perché poi a noi ci interessa perché ha parlato dell'Italia, ha parlato di Guerini, eccetera, però si parla anche dei francesi, insomma stanno aprendo un nuovo... State facendo come i francesi, state diventando i francesi, è un insulto. Non è la peggiore delle offese, diciamo, no? No, dal loro punto di vista intendo. Ecco, però, beh, diciamo poi che i francesi in realtà stiamo parlando del paese che ha la leadership di turno semestrale dell'Unione Europea e che ha un presidente che è l'unico che parla... Con Putin. Con Putin, quindi non è che proprio sia azzeccatissimo, no? È propaganda, certo. Ecco, stiamo parlando di argomenti però che fanno capire come ci sia nervosismo da tutte e due le parti, a dire il vero, no? Anche le parole e anche quella che è la narrazione che viene fatta da Zelensky che vi abbiamo mostrato proprio all'inizio di questa trasmissione sia col video sia con le fotografie postate segnalano un'usura, un logoramento. Un logoramento che ovviamente è ben diverso da chi è sotto assedio da 24 giorni. È però un logoramento anche da chi ormai già comincia a sentire i primi effetti, soprattutto economici, delle sanzioni e sa che probabilmente se si va ancora più avanti sulle sanzioni la guerra la vince sicuramente, vista la sproporzione di forze, forse in capo a una lunga lotta alla Russia. Ma la guerra economica è molto più difficile. Sì, ha ragione. Secondo me qui c'è proprio un errore di valutazione russa. Cioè, prima dell'inizio di questa guerra i russi erano convinti che con la loro azione avrebbero spaccato il campo occidentale che è già di suo molto sfilacciato, è mediamente improbabile, lo conosciamo molto bene, ci siamo dentro da molto tempo. Qual era il ragionamento russo al riguardo? I paesi dell'Europa occidentale, l'Italia su tutti, sono paesi economicistici. Quindi non potrebbero mai andare oltre i loro interessi economici per ragioni valoriali di interesse strategico, anzi si fermerebbero molto prima proprio per difendere i loro valori economici. Più o meno ci ha preso, non è che siano lottanissimi dalla nostra realtà. Ciò che i russi non hanno valutato, qual è il loro errore di calcolo, non è che qui ci sia nessuno realmente che faccia grandi discorsi, ma i due errori di calcolo sono, a mio avviso, il primo l'aver creduto che noi potessimo nonostante tutto scarrellare dal frutto americano soltanto per il interesse economico, senza che gli americani dicessero niente, al di là delle valutazioni valoriali che comunque nei governi sono sempre molto marginali, non le esaltiamo in nessun governo del pianeta. B, è vero, siamo un paese economicistico, loro dicono i paesi economicistici che tendono al posto ricismo come il nostro, fanno soltanto valutazioni utilitaristiche, verissimo, fin qui ci siamo. Il problema è che fanno valutazioni utilitaristiche per il loro interesse economico, che la Russia non garantisce, al di là dell'aspetto di nitrocarburi, l'Italia io credo, come gli altri paesi dell'Europa occidentale, si sarebbe trovata in grande difficoltà se fosse stata la Cina al posto della Russia, perché in questo paese, per ragioni un po' imponderabili, un po' per ignoranza, un po' per ingenuità, si crede che la Cina sia il futuro, soprattutto economico e quindi davanti a rompere con la Cina i rapporti... E' anche presente economico, è molto forte, gli imprenditori che abbiamo sentito in queste settimane ci dicono, beh, se si rompe con la Russia, come se si sta rompendo, è un danno, l'importante è che non si rompa con la Cina. Perfetto, esattamente questo. Ma questo per il conto di queste semestrali, non del... Questo sì, ma c'è anche chi pensa che sia proprio il futuro, che quindi il futuro che stia arrivando, eccetera. Il mercato è leggermente più ampio. Quindi, sì, ma la Cina ha talmente tanti problemi, ma al di là di questo, adesso non entriamo nel problema della Cina, ma comunque, se ci fosse stata la Cina al posto della Russia, probabilmente il calcolo russo avrebbe avuto un senso maggiore. Nel momento che qui c'è la Russia di mezzo, i russi, non è un gioco di parole, hanno un po' sbagliato i loro conteggi. Vediamo cosa ha detto Lavrov, che come sempre è l'anima razionale, trattino diplomatica di Mosca e che più che lanciare segnali delinea possibili strategie. La proposta di inviare Peacekeeper della Nato in Ucraina è demagogica, perché potrebbe implicare un controllo polacco sulla parte occidentale del paese. Zelensky ha suggerito di tenere dei colloqui diretti e il nostro Presidente ha accettato. Tuttavia c'è la sensazione costante che qualcuno, molto probabilmente gli Stati Uniti, stiano tenendo per mano la delegazione ucraina, impedendole di accettare le richieste che consideriamo minime. In ogni caso, il processo negoziale continua. Mi auguro che l'operazione speciale si concluda con la firma di un ampio accordo sulla sicurezza e sulla neutralità dell'Ucraina. Per quanto riguarda invece le ripercussioni interne al paese, dopo tutto saranno affari degli ucraini quando l'operazione sarà finita. Spero che terminerà con la firma di un documento complessivo sulle questioni che ho menzionato, la sicurezza, lo status neutrale dell'Ucraina, con garanzie per la sua stessa sicurezza. Siamo convinti che ogni paese ha bisogno di garanzie per la sicurezza e siamo pronti a prendere in considerazione e ad assicurare garanzie per l'Ucraina, per gli europei e ovviamente per noi stessi, al di fuori di un quadro di allargamento della Nato. Abbiamo chiesto anche che Kiev approvi una serie di leggi a tutela del linguaggio russo, dell'educazione in russo e dei media russo, nonché norme contro la nazificazione del paese. Leggi simili esistono in vari paesi europei, compresa la Germania. Allora anche durante l'Avrof abbiamo un po' discusso su questo, e allora cosa dice? Beh, io dico, quando l'Avrof non è esattamente un signore sprovveduto, diciamo così, quando dice che la Polonia propone di inviare i pischi per prendersi una parte dell'Ucraina, è ovviamente vero. Insomma, il sogno della Polonia è riprendersi la Galizia, questo lo sappiamo, lo so che cosa farà come se la prenderà, sì, però è chiaro, mi sembra quella la parte più interessante del discorso di l'Avrof, che ha due acceni, uno è questo, quando dice che i pischi per si della Nato è demagogia, ad oggi non c'è dubbio, perché non è che esistono, sentiamo dire, forse è il caso di chiarire in questi giorni, mandiamo i pischi per, addirittura alcuni dice, i caschi blu dell'ONU, come se fossero un esercito, i caschi blu dell'ONU, per chi ci ascolta, dividono i belligeranti, non è che fanno la guerra, cioè si fanno sparare addosso, oppure la guerra è finita o si fanno sparare addosso, non hanno nessuna capacità militare, perché a volte c'è una confusione, scambiano l'ONU per il governo del mondo. Ricordiamo Strebrenica, che è il modello di cosa può succedere di terribile se non ci sono vere forze di interposizione. L'ONU arrivano a guerra finita o se vogliono farsi uccidere, non credo che sia questa l'occasione. I pischi per della Nato è già diversa, a parte i pischi per non si sa bene cosa sia, se abbandonassimo queste espressioni sarebbe un momento di grande crescita culturale, a mio avviso. I militari della Nato arriverebbero lì per fare la guerra alla Russia, nel caso della Polonia per prendersi una parte di Galizia. Su questo Lavrov ha più che ragione, cioè semplicemente racconta la verità. Un cuore interessante è da ultimo quando Lavrov dice a me pare che sono gli americani a trattenere gli ucraini nel negoziato. è propaganda, è chiaramente una posizione, ma noi l'abbiamo raccontato diverse volte in questi giorni, Kiev non può trattare da sola, è una questione. Poi i russi esagerano, voglio parlare soltanto con gli americani, fin da gennaio, però certo non si può negare che è spesso al telefono Zelensky con Washington. Allora, con Fabri abbiamo esaurito la parte diplomatica relativa alle cose già successe, poi vediamo nel prosieguo del pomeriggio se ci saranno altre novità. Tra poco, con Francesca Mannocchi, vediamo a partire dalla cronologia di oggi cosa è successo sul campo e ci colleghiamo anche con Leopoli che anche oggi è uno dei punti caldi sul terreno con il nostro inviato che vedo collegato Fabio Angelicchio. E poi, come sempre, nella seconda parte andremo nel sud-est con il nostro Luca Steinman. A tra poco. Allora, abbiamo visto le implicazioni e i messaggi dal fronte diplomatico, nonché messaggi che sono molto vicini all'intimidazione che sono arrivati verso il nostro Paese. Tra l'altro, il Ministro Guerini, il Ministro della Difesa, che è stato preso di mira direttamente a quelle dichiarazioni che abbiamo sentito da quell'alto dirigente del Ministero degli Esteri russo, ha avuto la solidarietà, non senza praticamente, di tutte le forze politiche, di tutti i leader politici. È evidente che si sta parlando di qualcosa che non è ostile al Ministro, è ostile all'Italia, al nostro Paese, al nostro sistema. Solidarietà pleonastica, visto che si parlava di Italia più che del Ministro. Però ci sta. No, però si parlava proprio del Ministro. E comunque le parole che ha usato il nostro Ministro sono molto chiare al riguardo. Adesso le recupererò anche. Ma insomma, sono parole di ridimensionamento della portata, delle accuse di quello che viene mosso nei confronti suoi e del nostro Paese. E come a dire, lasciamoli alle loro farneticazioni. Bisogna dire che però, fa impressione vedere da Meloni fino all'estrema sinistra, tutte le forze politiche, tutti i leader, stare dalla stessa parte. Il che, come si sa, non fotografa anche la situazione che si trova ad esempio sui social o in parte del Paese. Da questo punto di vista mi sento di notare, di farvi notare come le forze politiche, il Parlamento, siano molto uniti in questa fase. Come non succede è molto spesso. Ma andiamo sul campo. Vi ho detto, c'è ovviamente Francesca Mannocchi con noi, c'è collegato da Leopoli il nostro inviato Fabio Angelicchio. Ma vediamo prima la cronologia di oggi. E' padrone della notte, Volodymyr Zelensky, presidente ucraino. Il suo primo messaggio di oggi lo invia alla Russia, a cui in sostanza dice, è giunta l'ora di parlarci. Questa è la priorità ora. Ma poi avvisa Vladimir Putin se le cose resteranno come sono le perdite russe. Saranno ingenti. Il primo mattino del ventiquattresimo giorno di guerra in Ucraina svela i veri numeri dell'attacco missilistico russo contro la base che ospitava avieri della settantasesesima squadriglia di Kiev. I morti sono oltre 80 e non 45 come diramato, ore dopo l'attacco avvenuto alle porte di Mikolaev. Un colpo durissimo ancora nell'area meridionale, dove lo sfondamento delle linee di difesa ucraine si fa sempre più reale. Mariupol al 90% non esiste più. Impossibile da qualche ora cercare una via di fuga verso il Mar Dazov, chiuso dalla marina russa. La guerra ora si combatte in strada nel centro conquistato ieri sera come l'aeroporto dall'armata russa sul terreno appoggiata anche dalle milizie cecene che due giorni fa hanno fatto a loro l'acciaieria Azvostal. Secondo ultimi report il polo industriale sarebbe oramai completamente distrutto e questo avviene mentre il terzo esercito, quello degli sfollati, dei profughi, cerca una nuova salvezza attraversando l'inferno lungo dieci corridoi umanitari anche oggi praticamente provenienti da ogni angolo del paese. Si lavora oggi per i danni fatti ieri dalla guerra e dalle armi russe, anzitutto come a Kharkiv, anche oggi teatro di bombardamenti e scontri. Si cercano corpi e possibili sopravvissuti, dice questo soccorritore qua sotto, ci sono molti ostacoli, anzitutto strutture metalliche pesanti e poi materiali di ogni genere, ma non vi preoccupate, stiamo lavorando. L'elenco delle città colpite si allunga col passare delle ore a Makariv. L'artiglieria pesante di Mosca spara colpi di cannone contro il villaggio, uccidendo sette persone e ferendone altre cinque. Siamo nella regione di Buccia, area nord di Kiev. Nella tarda mattinata c'è il tempo per riattivare la guerra dei numeri tra i due fronti. Kiev annuncia di aver ucciso 14.400 militari russi, di aver distrutto 446 carri armati, 1.470 veicoli corrazzati da combattimento, 213 sistemi d'artiglieria, 76 sistemi lanciarazzi multipli, 44 di quelli per la difesa aerea, 95 aerei, 115 elicotteri e 914 veicoli motorizzati. Il portavoce del Ministero della Difesa russo, Konashenkov, afferma invece che dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina le forze di Mosca hanno distrutto 196 droni, 1.438 carri armati e veicoli corrazzati, 145 largerazzi multipli, 556 sistemi di artiglieria da campo e poi mortai ed altri armamenti. E poi ancora i russi annunciano di aver utilizzato per la prima volta il Kinjal, il vettore ipersonico e dalla grande potenza distruttiva è difficile da intercettare. Anche a Luhansk non si fermano scontri armati e il lancio di razzi. Alle porte della città, ancora sotto controllo ucraino, muoiono nel primo pomeriggio una donna e due bambini che si aggiungono all'elenco di 112 minori uccisi dall'inizio della guerra a Kiev. Altri attacchi dalla periferia nord, ancora palazzi nel mirino e popolazione, ridotta la disperazione. Questa donna dice sì, penso che Putin stia cercando di uccidere quanti più ucraini possibile. I senza tetto aumentano ogni 24 ore e anche oggi tra le macerie ecco comparire il sindaco Klitschko. I missili balistici personici in dotazione alle forze russe colpiscono un deposito di munizioni ad ovest dell'area di Ivano-Frankvist, non lontano da Leopoli dove anche oggi le sirene antiallarme sono state attivate più volte. Oltre al suono delle armi c'è poi quello quotidiano dei politici, delle diplomazie al lavoro, faccia a faccia verbali, consumati da lontano come quello creatosi. Oggi tra Russia e Regno Unito, Sergei Lavrov, ministro degli esteri di Mosca, sostiene che esiste un fronte di paesi nel mondo composto da Cina, India, Brasile, Argentina e Messico che non accetterà mai di vivere nel villaggio globale americano dove lo zio Tom dice ordina loro cosa fare pretendendo che rispondano sì signore. Più asciutto Boris Johnson che dice di Putin è uno spacciatore da strada che crea dipendenza dal petrolio e dal gas di Mosca e che in realtà ha solo paura di fronte alla libertà mostrata dall'Ucraina. Allora, Francesca Manocchi, abbiamo visto molti elementi sul campo, abbiamo sentito molte voci, come sempre la cronologia mette insieme cronologicamente appunto uno dopo l'altro in ordine di apparizione durante la giornata fatti, commenti, prese di posizione da dentro il territorio ucraino e da fuori sulla guerra. Quello che abbiamo visto dall'Ucraina però è abbastanza indicativo del fatto che non c'è nessun allentamento né della tensione né dei bombardamenti. No, e questo apre le analisi e i ragionamenti su tutto quello che accadrà e su come fronteggiare l'emergenza rispetto per esempio al flusso di rifugiati che stanno arrivando in Europa, avendo ormai noi e gli ucraini appreso che questa guerra sarà comunque una guerra molto lunga. A tale proposito i numeri dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati di oggi, l'UNHCR, ci dicono che gli ucraini usciti dal paese a oggi sono 3 milioni e 300 mila persone con un afflusso principalmente verso la Polonia di 2 milioni di persone e che le organizzazioni umanitarie, anche questo non è un dato nuovo rispetto ai conflitti ma forse vale la pena dare alcune informazioni ai nostri telespettatori, rispondono e stanno rispondendo a questa emergenza organizzandosi in due maniere diverse e opposte. Una prima modalità, una prima strategia è una strategia che prevede una assistenza emergenziale cioè tendopoli, assistenza medica e sanitaria di primo soccorso nella eventualità che le persone ucraine arrivate nei paesi confinanti siano nei paesi confinanti in transito e destinate a ritornare nelle loro abitazioni in un tempo più o meno esteso. L'altra eventualità assai più preoccupante ma sulla quale le organizzazioni si stanno attrezzando è l'ipotesi che arrivino, facciamo l'esempio di Odessa e del confine da cui siamo rientrati, la Moldova, dovesse essere sotto attacco Odessa per le analisi del rischio e l'analisi demografica che le organizzazioni hanno fatto sulla popolazione di Odessa scapperebbero dalla città 700 mila persone che immaginiamolo in un paese come la Moldova equivale a un terzo della popolazione. Si stanno attrezzando le organizzazioni umanitarie anche per i casi che arrivino vittime di attacchi in maniera massiccia, mass casualty, cioè arrivino persone ferite nell'ordine delle centinaia o delle migliaia. Evidentemente a oggi i paesi confinanti, penso alla Moldova ma penso alla Polonia, non sono pronte a reagire ad eventualità di questo tipo. Quindi abbiamo due modalità, una risposta emergenziale su breve termine, una su medio e lungo termine che significa anche come accogliamo tutte queste persone se tutte queste persone resteranno a vivere nei paesi in cui sono arrivati. Certo, allora facciamo un riscontro con il nostro Angelicchio, Fabio Angelicchio ci ascolta da Leopoli, ha visto anche l'arrivo di molti convogli umanitari perché si va a prendere e a dare soccorso anche all'interno del territorio ucraino. Tra l'altro Kiev ha annunciato proprio ora che l'Ucraina ha fatto evacuare 190.000 civili dalle zone del conflitto attraverso i corridoi umanitari dall'inizio dell'invasione. È la vicepremier che abbiamo imparato a conoscere, Irina Vereshchuk, a dirlo in un'intervista. Allora a te la linea, Fabio. Grazie direttore, è proprio così come ricordavi tu. Allora questa è una guerra naturalmente che ha due fronti. Il fronte è quello sul campo, come dicevi tu, con gli attacchi, con le guerre, ma c'è anche l'altro fronte molto importante, ancora più importante che è quello umanitario. Come hai fatto sentire tu all'inizio di questa puntata, di questo speciale, il presidente ucraino Zelensky ha denunciato la Russia perché vuole aprire una catastrofe umanitaria e quindi ha denunciato che possa presto comparire il presidente russo e i responsabili davanti alla corte penale dell'AIA. La vicepremier ha detto abbiamo aperto dieci corridoi umanitari, soprattutto nelle zone del paese che sono quelle di Mariupol, di Donetsk, di Kiev, per permettere alle persone che si trovano ancora intrappolate sotto i bombardamenti, sotto i raid aerei dei russi di poter lasciare il paese. Ha spiegato anche le modalità, potranno uscire a piedi, dovranno essere sminati proprio i sentieri che potranno percorrere, potranno utilizzare dei convogli o delle auto private per lasciare il paese o comunque mettersi al riparo. Ricordavate da studio i numeri di questa catastrofe umanitaria? Sono oltre 3 milioni, 3 milioni e mezzo quasi i profughi, le persone sfuggite proprio che stanno lasciando il paese, oltre 2 milioni hanno già abbarcato la Polonia, il confine con la Polonia e qui da Leopoli, da dove parliamo, il confine dista appena 60 chilometri. Anche oggi, come gli altri giorni, quando ci richiamo nella stazione principale di Leopoli, con il campo allestito ormai da 24 giorni per accogliere, sfamare, nutrire, assistere i profughi, assistiamo a queste persone che scendono dal treno e mestamente si incamminano aiutati dai volontari verso il parcheggio antistante dove trovano ad accoglierli i pullman, i pullman che li portano soprattutto in Polonia naturalmente e poi ci raccontano nelle loro storie drammatiche e commoventi come anche oggi hanno fatto, ci raccontano di voler andare dagli amici, dai parenti, da chi li può insomma ospitare. Però anche oggi, ti voglio dire dire direttore, che sono suonate per due volte le sirene, erano sirene d'allarme come quelle dell'altro giorno quando è stato colpito l'aeroporto che dista soltanto 6 chilometri da questa città, quella che è considerata la capitale dell'Ovest dell'Ucraina, è stato lanciato un missile ipersonico che ha colpito un deposito di armi nella zona di Ivano-Franchischi. Ma soprattutto è stata l'occasione per rinnovare ancora una volta da parte del Presidente Zelensky l'aiuto di un nuovo sistema difensivo, perché questo missile ipersonico non è possibile contrastarlo con gli attuali sistemi. L'unico che può farlo è Israele con il sistema Iron Dome, quindi ha chiesto ancora una volta Israele di fornire questo tipo di sistema. Prima di restituirti la linea, direttore, sentivo prima che parlavate di Nazioni Unite, l'altro giorno in un albergo ho incontrato alcune persone delle Nazioni Unite, tra queste c'era anche l'ambasciatore Martin Chimani. A te la linea per il momento, direttore. E quindi vi siete salutati almeno, sì. Io non sento. Non sente. Allora, abbiamo sentito opportunamente il riscontro da parte del nostro inviato. Per favore. Allora, noi stiamo vedendo, perché abbiamo un attimo di larietà, perché in realtà stiamo vedendo una, assegnazione 3, una manifestazione di solidarietà con l'Ucraina e non riusciamo a identificare... No, adesso c'è più facile, perché vediamo che potrebbe essere nel nord Europa, dal testo che leggo, no? Stop den Krieg Jens. dovrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere Berna, potrebbe essere Berna o Zurico. Adesso vediamo. Dove non lo sappiamo. Comunque sia, sta parlando ancora Zelensky, come vedete. Mi conferma, siamo in Svizzera e vediamo, abbiamo visto prima delle immagini di una piazza gremita. Sta parlando nella sua lingua, Zelensky peraltro l'abbiamo già sentito più volte. Siamo a Berna. Siamo a Berna, sì, sì, è confermato quindi. Allora, come però abbiamo sentito, come abbiamo visto a più riprese, la situazione tutto è meno che sotto controllo. E poco fa Massimo Giletti, non pensiate a che svio, Massimo Giletti che si trova in Ucraina e che sta preparando la sua trasmissione ci ha mandato delle immagini che poi vi trasmetteremo da una zona che la nostra Francesca Marnocchi ben conosce, da Mikolaev, dove ci sarebbero stati 80 morti. È l'occasione per parlare di quella parte dell'Ucraina. Perché è così importante? Perché è la zona in cui ci sono gli scontri più cruenti? In questo momento, perché prendere Mikolaev significa aprirsi una porta sul porto di Odessa, quindi significa di fatto prendere il principale porto sul Mar Nero e chiudere il fronte sud. Soprattutto è il fronte che Putin ha aperto quando ha realizzato, dopo le prime settimane di guerra, che la presa di Kiev o il tentativo di presa di Kiev dovesse essere necessariamente rimandato. E quindi ha provato, ecco lo vediamo sulla cartina, ha provato l'accerchiamento ovviamente sulle repubbliche separatiste, ma quella era una guerra aperta, lo ricordiamo da giorni, da otto anni, e poi naturalmente con centralità sulla Crimea provando a chiudere da Mariupol fino ad arrivare appunto al confine con la Moldova passando da Odessa. Peraltro approfittando del fatto, lo dicevamo, di quel lembo di terra piccolissimo ma strategico che è la Transistria adesso e della debolezza di quel confine. Lo ricordavamo con i dati dell'emergenza umanitaria che necessariamente più passano i giorni, più in qualche modo si intrecciano in maniera violenta con i dati militari e con i dati dell'andamento della guerra, perché è davvero un confine poroso, vulnerabile e molto debole. Se cade Odessa e un milione di persone si riversa attraverso il confine di Palanca, si genera un'emergenza umanitaria che quella parte di Europa non è assolutamente pronta a fronteggiare. In nessuna maniera, né nel caso di un afflusso come quello che sta osservando in questi giorni, gli ultimi dati che ho chiesto proprio di venire qui parlano, direttore, a combattimenti di fatto intensi ma non intensissimi, di un passaggio da quel confine di 1300 persone al giorno. Immaginiamo se queste persone diventino improvvisamente domani 100.000 persone al giorno, insostenibile. Insostenibile ed è molto chiaro il motivo per cui quella è una delle zone di guerra dal valore strategico più importante. Se crolla il sud, la costa sul Mar Nero, tanto per intenderci, quella che sta appunto tra Odessa e la Crimea, allora per Kiev non c'è nessuna speranza. Peraltro aggiungerei che rispetto ad altre città che abbiamo visitato nelle scorse settimane, Odessa è, per la mia percezione di quello che ho potuto testimoniare, la città che si è svuotata meno in maniera anticipatoria. Cioè le persone a Odessa, complice il fatto che la vita, naturalmente in un paese che vive uno stato di guerra, è rimasta però una vita non ancora toccata fortunatamente dai combattimenti e dai bombardamenti, le persone, le famiglie hanno deciso di non lasciare la città neanche in maniera preventiva. Mentre le persone di cui assistiamo l'esodo in questo momento nella parte meridionale dell'Ucraina sono persone che arrivano da Mikolaiv, che come lo ricordavamo è teatro invece di bombardamenti intensi. Sulle vittime di ieri c'è molta incertezza, ci sono dei report, chiedevo appunto prima di venire qui, che parlano di 40-45 persone e altri che dicono siano almeno il doppio le vittime. C'è da sottolineare che le operazioni di ricerca delle vittime siano ancora in corso, quindi i dati che abbiamo sono comunque sia a ribasso che a rialzo non definitivi. Però ecco, certamente Odessa è una zona che è davvero cruciale, perché se dovesse partire un'invasione o un attacco da mare o da terra, significherebbe per i confini immediatamente prossimi al meridione dell'Ucraina davvero un problema serio e anche per noi, perché rischiamo di assistere all'effetto domino del conflitto. Certo, ci dobbiamo ancora fermare ma abbiamo molte cose da farvi vedere, tra cui ve lo dobbiamo le immagini che ci ha mandato appunto proprio Massimo Giletti, che documentano anche quello che stava dicendo adesso Francesca Mannocchia. Tra poco. Eccoci ancora qui, allora ci sono degli elementi che vi voglio ricordare. Poco fa Massimo Giletti, proprio Massimo Giletti, che sta preparando nel sud dell'Ucraina la sua trasmissione domani sera, non è l'arena, va in onda la domenica sera e andrà in onda verosimilmente da Odessa, è stato in una delle città, Mikolaev, che noi abbiamo conosciuto per alcuni reportage proprio di Francesca Mannocchi e da lì ci ha mandato delle immagini che ve lo dico subito. Noi trasmetteremo, perché le trasmetteremo, perché documentano qualcosa su cui si è discusso, perché qualcuno ha messo in discussione che ci fosse stata quella strage di soldati sicuramente causata da un missile russo. Invece le immagini di Giletti sono inequivocabili, che Massimo ci ha inviato. Aspettiamo di poterci collegare anche telefonicamente con lui, così commenteremo quello che è successo. Quando ci sono le immagini pronte ci colleghiamo con Giletti. Massimo Giletti appunto è là per questa trasmissione. Volevo tornare però a Francesca Mannocchi. Perché Francesca, lo ricordiamo ancora per chi non l'avesse sentito prima, ma lo precisiamo ancora, perché questi immagini... Allora, vediamo la cartina. Sopra Odessa, tra Odessa e la dorsale che porta verso Zaporizia e quindi da lì verso Dnipro e verso il nord del paese, è la strada che porta a Kiev, tanto per intenderci. Là sopra c'è proprio questa cittadina, che è importante e che viene bersagliata, cannoneggiata da giorni dai russi. Quando ci sei stata tu, erano già momenti molto molto difficili. Erano momenti molto difficili. Abbiamo raccontato da lì i sopravvissuti agli attacchi civili, negli ospedali, nelle scuole, negli asili che abbiamo mostrato, nelle abitazioni. I feriti di cui abbiamo parlato, direttore lo ricorderai, erano proprio sopravvissuti ad un attacco russo davanti a un supermercato, alla Coda, per comprare il pane. Certamente tra Micolai e Veodessa si giocano varie cose che possiamo osservare su questa cartina. Perché l'accerchiamento da est e da sud ha vari significati, secondo me, chiedo anche a Fabrice è d'accordo. Perché qui c'è la minaccia nucleare tra Energodar e Zaporigia, c'è il rafforzamento di una offensiva militare che è quella che riguarda le repubbliche separatiste, c'è tutta la macchina narrativa dell'annessione della Crimea e c'è il mare, il Mar Nero. Chiudere il Mar Nero significa mettere ancora più che con gli effetti dell'economia di guerra già in atto da un mese, mettere di fatto in ginocchio quello che resta dell'economia ucraina. Quindi in qualche modo in questo accerchiamento da sud-est si mettono alla prova tanti aspetti, alcuni propagandistici di Putin e altri sono gli effetti della minaccia nucleare e gli effetti dell'economia che rischia di essere totalmente disintegrata se cade odessa. Sono d'accordo, tra l'altro questo spostare il focus, perché inizialmente non era come Francesca sa, molto bene era lì peraltro, non è stato l'iniziale focus dell'avanzata russa, infatti aveva tre direttrici, una dal nord alla Bielorussia, una dalla Crimea, che è quella a cui Francesca fa riferimento e una da Oriente, che poi doveva andare a prendere Kharkiv per intenderci. Questo ci segnala che cosa? Che inizialmente i russi non pensavano, come non pensano nemmeno adesso, a dire la verità, di occupare totalmente il paese. Perché questo? E poi tra l'altro pensiamo soltanto all'inizio di arrivare a Kiev, fare il cambio di regime e firmare qualche carta che cambiasse poi la collocazione costituzionale dell'Ucraina. Le cose sono andate molto male da quel punto di vista, hanno rivisto i loro obiettivi e questo è verissimo, quello che stanno facendo ormai, lo raccontiamo anche da alcuni giorni qui, è l'obiettivo principale, cioè chiudere lo sbocco al mare e controllare il meridione dell'Ucraina. Ma perché non c'è la volontà di occuparla totalmente e anche di annichilirla totalmente? Perché altrimenti gli errori sarebbero troppo grossolani. Cioè essenzialmente, se fosse stato questo l'obiettivo iniziale, per intenderci, la Russia doveva muoversi soltanto su due direttrici, che sono quella meridionale e quella occidentale. Perché questo avrebbe impedito gli approvvigionamenti dal mare, cioè avrebbe totalmente circondato l'Ucraina, sarebbe stata isolata dal mondo. Chiudere il confine occidentale voleva dire impedire gli approvvigionamenti di armamenti che arrivano, anche i nostri, attraverso la Nato, attraverso il confine polacco soprattutto, e al sud bloccare quelli che arrivano dal mare. Invece l'Ucraina ha il confine occidentale ancora totalmente sgombro, liberissimo, si entra e si esce, entrano politici, entrano armamenti, eccetera. E il meridione ancora non totalmente controllato. Questo ci segnala che la Russia all'inizio non voleva conquistare totalmente l'Ucraina, ma è tutto stato discretamente improvvisato ed improvvisato anche male. Allora, come detto, ora siamo in grado di collegarci e di vedere le sue immagini, di collegarci con Massimo Giletti. Massimo, mi senti? Eccoci, eccoci, Marito, ciao. Allora, tu sei là, nella cittadina di cui... Prego. Sì, 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 siamo riusciti ad andare via perché poi è sempre un po' complicato perché, come ti ripeto, è arrivato un missile probabilmente dal mare ieri sera che ha raso il suolo completamente questa caserma dove c'erano... Quando siamo arrivati ho visto tirare fuori i corpi di tantissimi ragazzi molto giovani. Allora, vediamo le immagini. Ecco, queste sono le immagini che ci hai mandato. Sentiamo anche l'audio perché c'è la tua voce. Il resto di questi ragazzi non ci sono più. Un missile russo è arrivato. Questi hanno i loro zaini, i loro caschi. Saranno le scarpe, le tute mimetiche. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Ecco, questo è brevissimo ma molto chiaro, purtroppo tragico, piccolo video che però farà parte, immagino, di quello che tu mostrerai domani, un vero reportage da Mikolaev, giusto? Io sono entrato nel Cratera anche se chiaramente ci hanno detto che era molto pericoloso perché quella è zona di guerra. La fanteria russa è lontana 60-70 km da lì. Però il problema è che ogni giorno Mikolaev arrivano colpi improvvisi o di missili come questo che ha raso il suolo tutta questa caserma o colpi di artiglieria o di mortaio. Per cui il problema è che non sai quando arrivano. Quindi c'è andato pochi minuti. Tra l'altro io sono entrato anche nel cratere. Impressionante l'immagine del cratere. Poi abbiamo girato anche purtroppo quelle immagini. Sai, non si sa mai se dare o non dare. Erano tutti ragazzi giovani, visto due o tre soldatezze. Sì, sono terribili però non si distingue in maniera così terrificante. Quindi abbiamo ritenuto che fosse possibile mostrarla. No, queste domani le daremo forse, decideremo se dare. Ma il problema è che quello che sentivo Fabri è in sottofondo. Io venendo qui ho visto convogli di camion molto strani, molto particolari, come diceva, che arrivavano dalla Romania, siamo arrivati in macchina attraverso la Romania e la Moldavia. Quindi i rifornimenti di un certo tipo di materiale arrivano anche da lì. Ma quello che respiri qua è la voglia di resistere fino alla fine. Una soldatezza oggi mi ha detto, mentre riprendevamo queste scene, io pensavo che mi rimproverassero, mi dicesse no. Mi ha guardato piangendo, mi ha detto, hai il dovere di riprendere i corpi dei miei fratelli, perché gli europei devono capire che cosa vuol dire negare non fare la no-fly zone. Quindi questi combattono, hanno uno spirito di voglia di libertà assoluta e quindi non è facile. Quando tu gli parli di un compromesso, io ho provato ieri sera a parlare con un altro ufficiale che parlava italiano perché ho 13 anni in Italia, gli ho detto che un compromesso è accettabile, gli ho detto che noi non accettiamo compromessi, poi è chiaro che la politica deciderà, non saranno i militari, però questo è lo spirito di questi uomini e di queste donne. Va bene Massimo, io non ti voglio rubare altro tempo perché ovviamente stiamo parlando di una situazione che è molto precaria. Se vuoi domani pomeriggio in vista della trasmissione di domani sera, se vuoi con molto piacere ci risentiamo, è interesse nostro. Molto volentieri, molto volentieri, grazie Enrico. Intanto grazie a te, buon lavoro. Grazie. Francesca, quel cratere di cui abbiamo visto una parte ci fa però capire al di là di tutto la virulenza degli attacchi e l'utilizzo massiccio di missili e ordigni tradizionali, ma non per questo meno dilaceranti. No, aggiungo a quello che riassumeva Fabri poco fa, che la doppia strategia oggi, come abbiamo visto sulla cartina, è quella di controllo e quindi in qualche modo mi si passi il paradosso, più attenzione sugli obiettivi civili nella parte sud del paese, mentre nella parte settentrionale, penso naturalmente alla capitale Kiev e penso a Kharkiv, c'è un attacco di tipo punitivo per due ragioni. La prima, quella su Kiev, è naturalmente terrorizzare la metà della popolazione che è rimasta dentro e quella su Kharkiv è perché evidentemente quella parte, quella città così vicina al confine russo, russofona, ma evidentemente non abbastanza russofila, non si è piegata come avrebbe dovuto nelle strategie antiguerra evidentemente di Putin. Quindi abbiamo questo doppio, secondo me abbiamo questo doppio binario, questo doppio registro. Quello settentrionale non so se partiva, ma è senz'altro diventato uno scenario punitivo sulle popolazioni e sull'architettura delle città, perché questo avrà un effetto di lungo termine, di lungo periodo, nell'eventualità che la guerra finisse domani o tra due mesi, le popolazioni che rientreranno in quelle città violate, in quelle città brutalizzate, avranno semplicemente terreno fertile per alimentare l'odio dei mesi e degli anni successivi. Su questo non c'è dubbio. L'odio che si genera nelle guerre è forse l'aspetto di più lunga durata che c'è di ogni conflitto. L'odio o lo svilimento della forza, della tenuta, della coesione sociale. Penso ad Aleppo adesso per questo. Aleppo è una città che a 11 anni dall'inizio di una guerra, che non è ancora finita e che ha sfollato dalle proprie abitazioni, metà della popolazione, metà della popolazione, a 11 anni dall'inizio della guerra siriana, della guerra civile, della rivoluzione che poi è diventata guerra civile siriana, sono 10 milioni gli sfollati che non hanno fatto ritorno a casa loro, quella città oggi è ancora un monumento alla distruzione e sono le medesime bombe che stanno cadendo su Kiev. Ci sono i russi di mezzo, come sempre. Tra l'altro su Kharkiv, diciamo, anche ieri è incredibile. Posso aggiungere però un elemento. Si è parlato proprio perché abbiamo visto l'effetto della distruzione dal cielo, attraverso missili e ordini comunque lanciati da distante. Si è parlato molto in queste ultime ore di questo nuovo missile ipersonico. Che cosa ne sappiamo? Stiamo per vedere un servizio che ha realizzato la nostra Gabriella Ekaimi. Però perché è stata una cosa così importante? È importante per due ragioni. La prima perché segnala una capacità russa non impiegata al 100%. Cioè è in realtà un attacco dimostrativo, non ha un grande valore strategico, ma i russi stanno dicendo attenzione... Che noi siamo in grado di mettere in campo ben altro. Finora abbiamo utilizzato una percentuale del nostro arsenale e nemmeno la migliore. Abbiamo visto dei carri armati prodotti negli anni 70, alcuni negli anni 80. Quindi di epoca sovietica. Di epoca sovietica, alcuni negli anni 90, quindi subito e immediatamente dopo. E poi serve a causare quell'effetto straniante, no? Per cui non solo siamo davanti a qualcosa che può segnalare un aumento delle capacità russe, ma anche soltanto l'aggettivo ipersonico che è tradotto in maniera identica in tutte le lingue segnala un effetto potenzialmente straniante. Poi avete i droni che sono comunque armi molto basilari, semplici ma efficacissime, come i droni turchi, anche gli switchplate che gli americani adesso stanno consegnando agli ucraini. Ma noi abbiamo l'elemento ipersonico. Più o meno serve a questo, perché poi colpire in questo modo, in questa occasione, non ha un grande valore strategico. E più lo spavento che si crea è la spada di Damocle, tecnologica, in vista dell'immediato futuro. Vediamo che cosa sono allora questi missili ipersonici. Lo hanno chiamato in russo Kinzhal, pugnale. A una gittata dichiarata tra i 1500 e i 2000 km e lungo 8 metri, può portare un carico nucleare o convenzionale di 480 kg, ma soprattutto può raggiungere velocità pari a 10 volte quella del suono. Ha una traiettoria di volo irregolare ed è altamente manovrabile. In poche parole, un incubo per qualunque difesa. Secondo la dichiarazione ufficiale di stamattina del portavoce del Ministero della Difesa russo, è stato un Kinzhal, testato per la prima volta su un vero campo di battaglia, a far saltare in aria due notti fa un deposito di munizioni nel villaggio di Deliatin, vicino a Ivano Franchisca, nell'ovest dell'Ucraina. La sua nascita, per così dire, fu annunciata al mondo da un trionfante Vladimir Putin nel suo annuale discorso alla nazione, tenuto il primo marzo del 2018. Una delle sei armi di prossima generazione di cui il presidente russo si vantò senza nessuna remora durante un intervento nel quale mostrò persino video dimostrativi di armi nucleari che colpivano la Florida, meta preferita dell'allora presidente Donald Trump. Le nostre armi, spiegò persino Putin, volano basse, volano ferme, volano veloce e volano lontano. Mentre fino ad allora l'intero sistema di difesa antimissilistica americano era basato sul concetto che i missili nucleari nemici sarebbero stati relativamente facili da intercettare perché dovevano volare alti e potevano essere colpiti molto prima che raggiungessero i loro obiettivi. I giornali americani presero quelle minacce quasi con sufficienza. Armi terribili sì, ma ci vorrà molto tempo prima che possano essere davvero testate e davvero funzionare. Probabilmente è un blef, commentarono molti analisti. Vladimir Putin in fondo era in campagna elettorale, si sarebbe votato di lì a 17 giorni per rieleggerlo presidente e il suo discorso doveva essere rivolto fondamentalmente a riconquistarsi la fedeltà dei russi. E poi il paese troppo povero si faceva osservare e il Cremlino deve pensare a dar da mangiare ai russi. Non si può permettere un programma militare così ambizioso. Quattro anni dopo, almeno il Kinjala, quanto pare, è una realtà. E in effetti non è che il Cremlino lo abbia mai tenuto nascosto. Sappiamo che era già stato testato nel sud della Russia nel dicembre del 2017. Sui siti dedicati alla difesa se n'è praticamente seguita l'evoluzione quasi di mese in mese. Sappiamo che viene lanciato da un MiG-31K modificato e nel dicembre del 2021 il ministro della difesa russo, Shoigu, annunciò che era stato formato il primo reggimento aereo dotato di intercettori MiG-31K, equipaggiati con missili Kinjala. Reggimento dislocato presso l'aeroporto di Aktubinsk nella regione di Astrakhan. Il loro compito principale sarebbero stati gli attacchi antinave, e il pattugliamento aereo sul Mar Nero. Nel febbraio scorso MiG, equipaggiati col Kinjala, sono stati schierati nell'enclave russa di Kaliningrad. Praticamente tutte le capitali europee sono alla loro portata. In quel discorso del 2018 Putin aggiunse che una squadra di giovani specialisti di alta tecnologia stava lavorando assiduamente per sviluppare e testare nuove armi, compreso un missile a propulsione nucleare che poteva raggiungere qualunque punto del globo e deludere i sistemi di intercettazione e sottomarini nucleari che navigano senza equipaggio a grande profondità e a grande velocità. Nessuno ascolta più la Russia, disse alla fine del discorso Putin. Bene, ascoltateci adesso, concluse. Il 3 febbraio del 2021 il segretario alla difesa americana Lloyd Austin ha ospitato al Pentagono i manager di una dozzina di aziende nel settore ipersonico per enfatizzare, diceva un comunicato del Pentagono, l'impegno della difesa americana per accelerare lo sviluppo di sistemi di questo tipo. Ma i commenti di alcuni ufficiali sottolineavano i problemi di budget e persino i problemi di trovare nel paese siti adatti per testare armi personiche. Non sembra insomma che a quattro anni di distanza la sfida di Putin sia stata ancora raccolta. Questo per quanto riguarda i missili personici. Certo, è come si dice, se uno annuncia io questo, del resto tutta la fase della deterrenza nucleare che ha tenuto il mondo in un equilibrio difficile ma che ha resistito per decenni si è basata proprio sul fatto che le grandi superpotenze dicevano io ho quest'arma, io ho il mio arsenale. Il fatto di dire su una guerra locale, che questo tutto sommato è territorialmente limitata e speriamo che lo resti, noi abbiamo questo tipo di armamenti, vuol dire non alzate troppo la cresta, ma diciamo in termini ovviamente diversi da quelli militari perché noi abbiamo questa e chissà quali altre armi. La potenza di fuoco russa non è che si discute, non è che c'è un paragone possibile tra la potenza di fuoco russa e quell'Ucraina, cioè parliamo di grandezze gigantesche, grandezze medio piccole. Il punto è che non è che la guerra la vinci soltanto o soprattutto con la potenza di fuoco, non questa guerra. Se la domanda è, la Russia è in grado di obliterare l'Ucraina, distruggere la rada del razzuolo? Certamente sì, ma non può essere, non solo perché ce lo auguriamo, ma non può essere questo l'obiettivo perché non sarebbe una vittoria strategica, perché non condurrebbe a nulla di quello che si è prefigurato il Cremlino e dunque dal momento che la guerra è diversa, molto diversa sul campo, la Russia deve condurre un'altra guerra, e lo raccontavamo prima, una guerra nella quale non ha ancora sigillato il fronte occidentale che lascia arrivare armamenti in continuazione all'Ucraina e addestratori e veterani e volontari che vanno a combattere il fronte di resistenza e non ha ancora nemmeno chiuso totalmente lo sbocco al mare dell'Ucraina. Mentre, come diceva anche Francesca, per ragioni un po' ideologiche, un po' punitive, un po' per qualcos'altro, tra virgolette si distrae in obiettivi che al momento possiamo considerare secondari. Poi sul carchipolo, diciamo anche ieri, l'errore di calcolo è talmente grossolano che non si capisce bene da dove sia provenuto, che può essere lo stesso anche che riguarda Mariupolo, o anche Odessa un domani non ce la curiamo. Sì, c'è una popolazione largamente russofona, probabilmente prima di questa guerra anche mediamente russofila, adesso è difficilissimo stabilirlo con precisione, ovviamente, ma nel momento in cui ne bombardi le città, quindi ne uccidi i parenti o se stessi o le famiglie, insomma quel legame culturale etnico che esiste, e lo dicevamo ieri, si sbiadisce inevitabilmente, cioè non può non esserci stato questo nel calcolo russo, cioè non si può essere così rudimentali, questo vale anche per le popolazioni che sono appartenenti alla stessa nazione, non solo etnicamente, figurarsi nel caso come questo in cui si vive comunque in due nazioni diverse, sebbene etnicamente del medesimo ceppo, quindi gli errori così grossolani nella Russia hanno commessi finora talmente tanti che non basteranno i missili personici a dire vinceremo la guerra, dal loro punto di vista si intende c'è qualcosa che va rivisto e che va rivisto, altrimenti si va al tavolo delle trattative che è un po' quello che i russi provano a fare adesso, bleffano dicendo noi possiamo fare peggio, questo serve anche sul tavolo negoziale, dateci tutto perché noi possiamo fare molto peggio, non sappiamo se funzionerà. Certo, allora possiamo dire che hanno già dimostrato che possono fare peggio dal punto di vista delle relazioni diplomatiche con quell'incursione in terra italiana attraverso la dichiarazione, attraverso l'intervista a Riano Vosti, tra l'altro non pensiamo che questo alto dirigente del Ministero degli Esteri abbia fatto una gaffe, stiamo parlando, come abbiamo visto nel nostro servizio prima, di un servizio domande e risposte, di una intervista che non è stata fatta all'impronta come è evidente, perché purtroppo è scritta, non è forse un'intervista video, uno può pensare che sia sfuggita qualche parola. Un'intervista scritta a un esponente del Ministero degli Esteri russo è soppesata parola per parola. Chi conosce i russi lo sa, sono molto burocratici su questi punti. A me è capitato ad esempio qualche tempo fa di intervistare Lavrov ed è sempre così, cioè le domande vanno inviate e poi ci sono risposte scritte, e poi si riguarda ogni parola. Quindi anche questa intervista in cui ci sono elementi durissimi, stiamo rivedendo nei confronti dell'Italia, del Ministro della Difesa Guerini, non sono voci dal sen fuggite, no, sono sicuramente parole che sono state pesate e che volevano toccare e ferire. Tra l'altro è arrivata anche la presa di posizione durissima di Palazzo Chigi. Dice Draghi, esprimo piena solidarietà al Ministro della Difesa Guerini, vittima di attacchi da parte del governo russo. E già questo è diverso da dire da un funzionario. Ma è corretto, è corretto. Il paragone tra l'invasione dell'Ucraina e la crisi pandemica in Italia è particolarmente odioso e inaccettabile. Il Ministro Guerini e le forze armate sono in prima linea per difendere la sicurezza e la libertà degli italiani. A loro va il più sentito ringraziamento del governo e mio personale. Al di là di questo e che è giusto e dovuto il ringraziamento alle forze armate che fra l'altro sono in mobilitazione come si sa dal 7 di marzo quella famosa circolare visto che ovviamente è in corso sul suolo europeo una guerra e ci mancherebbe altro che non ci fossero alcuni settori che vengono sensibilizzati ai rischi della situazione. è importante quella parte che riguarda gli attacchi da parte del governo russo. Del governo russo. Lo ripeto. Vuol dire che l'Italia oltretutto presenta in qualche modo una disponibilità a pensare che le cose con Mosca possano peggiorare. Si possa arrivare anche dal punto di vista diplomatico a una situazione più difficile. però noi ci dobbiamo fermare adesso e dopo abbiamo ulteriori elementi perché parliamo di Putin di quello che è successo ieri allo stadio di Mosca e di alcune cose che non quadrano. e insomma abbiamo visto molte cose cari telespettatori e abbiamo visto anche questo missile ipersonico che è in qualche modo la spada di Damocle tecnologica e militare che Mosca ha messo sopra il suo intervento la sua operazione militare speciale in Ucraina come ancora ieri l'ha chiamata Vladimir Putin. Già Putin ieri Zelensky tutti i giorni Zelensky anche l'abbiamo visto all'inizio con dietro evidentemente una Kiev notturna ma da più parti sia nei confronti di Putin sia nei confronti di Zelensky si è dubitato sulla genuinità delle cose che si sono viste il che se è più comprensibile per il presidente ucraino che è evidentemente l'uomo bersaglio per Mosca e che non si può pensare che giri tranquillamente per una città assediata è un po' diverso per Putin che ieri era in mezzo ai 100.000 del principale stadio sportivo di Mosca eppure i dubbi ci sono anche lì vediamo il servizio Carla Rumor C'è un'altra guerra che si sta combattendo in queste ore non colpisce vite umane ma ha effetti profondi sugli equilibri del conflitto è la guerra delle fake news bipartisan nelle ultime ore sono due gli episodi clamorosi che hanno intasato la rete da una parte all'altra degli schieramenti il primo riguarda la manifestazione di ieri allo stadio di Mosca per l'anniversario della nessione della Crimea Putin e la sua dimostrazione di forza la folla le bandiere gli applausi ebbene a un certo punto la telecamera inquadra queste due ragazze volti giovani freschi trucco perfetto due felpe col cappuccio rosa pallido applaudono sorridono filmano con il telefonino nulla di strano nella moltitudine di una folla chiamata ad applaudire il suo presidente se non fosse che poche ore dopo e la televisione ucraina next a notare che quelle due ragazze sono le stesse di un video di un anno fa guardate Putin partecipa a un'altra manifestazione stesso entusiasmo intorno a lui bandiere ovazioni ed eccole le due ragazze la scena è la stessa come se fosse stata montata d'arte nel video di ieri stessa giacca una rossa l'altra scura la stessa felpa chiara con cappuccio stessi visi freschi e stesso trucco il perché questa immagine sia stata ripescata da un vecchio evento e fatta passare per attuale rimane un mistero certo è che ha scoperchiato un vaso di Pandora le ipotesi fatte ieri sulla manifestazione allo stadio diventano più reali l'interruzione delle trasmissioni che taglia il discorso di Putin in corso per mandare in onda un cantante presente allo stadio era stato definito dal ministro degli esseri Lavrov un semplice guasso tecnico ma ora i dubbi sull'autenticità del video non sorgono solo fra i soliti complottisti come il dubbio che quel giubbotto ampio di Putin ne nascondesse sotto un altro antiproiettile di sicuro c'è invece il fatto che a stretto giro arriva la risposta di Mosca in questa guerra di accuse reciproche di news e fake news questa volta al setaccio ci finisce l'ultimo video del presidente ucraino un messaggio trasmesso dal centro di Kiev a detta di Zelensky questa volta è un canale telegram che si chiama guerra contro i falsi che lo analizza fotogramma per fotogramma fino a notare che l'illuminazione del video è qualcosa di strano non è la stessa nei vari livelli di profondità ancora una volta l'accusa è che sia un video creato in uno studio a dimostrare che Zelensky non si troverebbe affatto nel centro della sua Kiev c'è ancora qualcosa che non torna una parte della spalla sinistra di Zelensky vedete scompare e lo sfondo artificiale la attraversa e poi ancora fa troppo freddo a Kiev in questi giorni perché non esce vapore dalla bocca di Zelensky e anche l'Ucraina non è la prima volta che viene accusata di diffondere video falsi come l'aver fatto passare sui social una foto dei vigili del fuoco australiani come ucraini o come un video in cui gli abitanti di Cerniv sono fucilati da militari russi che in realtà non erano mai arrivati in quella città e questo fa parte di tutte le guerre la guerra di propaganda di fake news di hoax è tutto la disinformazia del resto è parola russa e serve anche a questo negli anni negli anni dello stalinismo e quelli immediatamente successivi si toglievano dalle foto i dirigenti che erano andati in disgrazia i dirigenti sovietici che erano andati in disgrazia o peggio e venivano cancellati anche dalle fotografie ufficiali e qui succede altro e chissà e chissà che altro non immaginando che poi tutti noi abbiamo ben chiaro che un leader come Putin ma non solo lui i grandi leader del mondo poi se vanno all'aperto in uno stadio con centomila persone hanno sicuramente un giubbotto a due proiettile sarebbe un po' incauto al contrario infatti quello è un punto neanche da prendere in considerazione che Putin avesse il giubbotto a due proiettile ce l'ha anche Biden quando va in uno stadio di cinquattemila persone sarebbe assurdo che non ce l'avesse poi in America dove le persone sono spesso armate figurarsi mi sembra totalmente irrilevante così anche la vicenda di Zelensky che è quasi imbarazzante lo sfondo è talmente grossolano che viene da pensare che l'abbiano fatto quasi apposta cioè per dire sì io sono chiuso dentro ma non mi interessa facciamo questa storia semplicemente per far vedere che possiamo anche farvi beffe di voi cioè mi sembra talmente grossolano è quasi dichiarato è quasi dichiarato e oltretutto uno Zelensky che volesse far vedere che a Kiev davanti ai suoi palazzi cammina non sta fermo sì tra l'altro infatti l'ultima volta camminava è tutto molto è tutto molto dichiarato diverso il discorso non per dire che su diverse le situazioni che è ovvio è diverso invece il discorso su Putin su quelle strane presenze io credo io credo che lì ci sia un qualcos'altro cioè partendo dal presupposto mi permetto che questi sono discorsi non rilevanti nell'uno nell'altro dal metro della guerra cioè non per questo stabiliamo se i russi sono meno con o contro Putin ma detto ciò io credo che ci sia stata evidentemente anche qui molto grossolana la volontà di segnalare una età media nel pubblico in maniera eccessiva e anche una certa freschezza cioè sembrano quasi delle figuranti non ne ho idea ma insomma quindi una freschezza dei volti gradevoli vestite alla moda eccetera dimenticandosi di averle già utilizzate in un'altra occasione siamo in un caso di pura propaganda i russi spesso fanno meglio di così queste cose qui fare peggio è davvero difficile esatto fare peggio è ragione lei è un po' complesso insomma è chiaramente un qualcosa che poteva essere fatto meglio dal loro punto di vista ma che allo stesso tempo a mio avviso non segnala niente del consenso o del non consenso in favore di Putin perché non è non è questo che lo determina tantomeno giubbottati proiettili che se non l'avesse avuto sarebbe quasi grave per quanto incauto e serve a rafforzare forse anche la preoccupazione più grande che è quella che gli si rivolti contro appunto quella generazione lì che è quella esclusa banalmente appunto conta di nuovo poco nell'economia della guerra però dai social media da una certa forma di economia occidentale dal consumismo eccetera quindi probabilmente il messaggio è anche questo è dire è quella frangia lì di popolazione che ciò nonostante ci supporta sì perché esatto è quella parte di popolazione che vede immediatamente gli effetti della chiusura da parte dell'occidente la chiusura di Instagram dei canali Instagram è stata per un popolo delle nuove generazioni quelle russe che avevano scoperto i social network in maniera molto massiccia che avevano come in tutto il mondo i loro e soprattutto le loro influencer è stata la chiusura di un rubinetto di socialità virtuale molto molto utilizzato e questo in effetti il fatto che ci volessero magari noi non le conosciamo quelle due ragazze hanno un volto che suggerisce qualcosa a qualcuno nell'ambito lo avremmo saputo nelle dieci ore di questa giornata lavorative l'avremmo già saputo invece non è così però si ipotizza che si volesse far vedere che le nuove generazioni a Mosca come in tutta la Russia stanno con Putin anche se poi è abbastanza evidente un'altra cosa che se possiamo tornare per qualche secondo le immagini dello stadio di Mosca emergono sono delle cose che emergono con molta chiarezza e cioè ad esempio primo che tutti hanno lo stesso tipo di bandiera evidentemente le bandiere sono state distribuite ma è che non è come allo stadio che i tifosi vanno ciascuno con la sua bandiera e lì ci saranno state diverse migliaia di bandiere quindi è evidente che tutto anche da questo punto di vista è stato predeterminato si sapeva che c'erano i pullman ma questo succede a ogni manifestazione anche all'ovest però ecco queste immagini delle bandiere sono abbastanza chiarificatrici io credo io credo che in realtà sì è tutto vero io credo che in realtà qui il governo russo come un po' implicitamente abbiamo detto diceva anche Francesca abbia voluto soprattutto intervenire sull'età dei partecipanti cioè intendiamoci questi bagni di folla Putin li può fare tranquillamente ma l'età probabilmente dei partecipanti sarebbe un po' diversa qui non solo abbiamo partecipanti giovani ma chiaramente di estrazione cittadina e diremmo non fossimo in Russia borghese quando sappiamo che poi che tanto è chi decide lo spirito russo non è composto mediamente da questo tipo di persone la famosa Russia profonda con il termine abusato stereotipato non è questo tipo di persone ed è poi ciò su cui si fonda la guerra e anche Putin raccontare invece questa maniera con consenso che è quasi artificiale è stata una scelta deliberata io credo che gli interventi siano serviti su questo aspetto per il resto ripeto non è da qui che possiamo misurare il consenso di Putin però è anche divertente andare a vedere come in una guerra divertente si tende a punto di vista professionale come in una guerra anche di informazione si utilizzano questi o quegli altri mezzi vediamo mi pare che ci siano delle altre novità dai social vediamo la nostra Francesca Fanuele dalla regia mi pare che ci proponga ecco vediamo questa qui siamo a Rianovosti l'agenzia di stampa russa un dipendente del dipartimento si è arreso all'esercito russo ha annunciato piani per attentati terroristici a Leopoli contro la missione diplomatica statunitense qui evidentemente si sta parlando dei servizi segreti dei servizi speciali dell'Ucraina e praticamente si vuole sostenere che appunto Kiev gli uomini di Kiev o gli uomini deviati di Kiev avrebbero comunque preparato una provocazione una norma che si chiama ormai va di moda l'operazione false flag per poi accusare i russi tra l'altro Leopoli è una città prima sentivamo Massimo Giletti succede qualcosa di simile anche a Leopoli in un altro senso c'è esempio la CNN da molti giorni trasmette forse con il suo conduttore giornalista più famoso che è Anderson Cooper trasmette da molti giorni proprio da lì quindi è una città che si evita da parte russa di toccare per le legazioni per le ambasciate e anche perché c'è una presenza massiccia Francesca ce lo può confermare la presenza massiccia dei medi americani che trasmettono soprattutto da Leopoli quindi è interessante questa notizia perché è un tentativo di condurre la guerra laddove non c'è mai stata massicciamente attenzione e forse è anche la presenza diplomatica quella dei media e di alcune visite politiche forse è anche un modo per abituarci alla possibilità che possa diventare la nuova capitale a tempo io credo io credo che ci sia davvero in questo movimento intorno al viva Leopoli anche come dire un retro gusto un retro messaggio che possa dire all'Europa nell'ipotesi che l'Ucraina si vada dividendo Leopoli diventerà la capitale de fatto del governo immaginiamolo esiliato di Zelensky esiliato in casa sua esiliato in casa sua questa è una possibilità l'abbiamo già visto questo scenario in Libia governo esiliato nel 2014 con due capitali e diciamo più o meno siamo ancora così c'è questa parbenza di governo di unità nazionale però sono passati otto anni e siamo ancora così io non escludo che capiti la medesima cosa cioè una guerra che è lì persiste cambia intensità l'ordine delle notizie e degli eventi da picco da acme comincerà ad essere piatto non smetterà e sarà un continuo diciamo show off del catalogo delle armi quindi oggi ti faccio vedere che ho l'ipersonico domani che posso colpire i civili fino a dilatarsi in una situazione di pericolosissimo stallo sì questo è il rischio reale la possibilità reale abbiamo parlato tante volte peraltro di Leopoli che è una città con una grande storia che affonda le radici da tempi passati ma gloriosi importanti dal punto di vista culturale dal punto di vista storico ma dobbiamo anche ricordare che nella seconda guerra mondiale Leopoli fu anche per gli italiani la terra purtroppo di qualcosa di tragico e ancora e ancora questo sta nella storia militare del nostro del nostro paese però Leopoli può effettivamente essere perché è stata scelta da praticamente da tutte le diplomazie e soprattutto dei paesi occidentali come la frontiera arretrata diciamo il posto da qui si può continuare a stare e evidentemente anche parliamoci chiaro con una consultazione indiretta ma evidente con con i russi si è detto noi ci spostiamo tutti a Leopoli non fare scherzi tant'è che è un composto da cui è facile fuggire perché la frontiera è un passo peraltro se posso aggiungere se così dovesse andare noi ci ritroveremmo riproposto esattamente lo stesso scenario che c'è in Siria e in Libia tra i due grandi attori di questi scenari Russia e Turchia da un lato a sostenere o a controllare una parte del paese e dall'altro a sostenere non controllare evidentemente ma a sostenere l'altra parte del paese quindi avremmo la Turchia così impegnata massicciamente in Ucraina forse fino al punto della Libia della Siria non fino a quel punto però come attore che si propone come ruolo negoziale importante sì quello che non c'è dubbio abbiamo fatto vedere a volte nelle nostre cartine è che c'è un taglio verticale nella carta geografica che va veramente dall'Ucraina fino alla Siria e si vedono composti interessi che tutti toccano Turchia e Russia e che vanno appunto da Kiev fino a Damasco ed è evidente che poi si capisce guardando la visione d'insieme adesso lo possiamo fare con le carte geografiche col mappamondo idealmente ma la verità vera è che si capisce come gli interessi siano strategici Fabri lo sa bene e non siano così di interesse di chissà quale altro tipo è tutta un'area che sta lì ed è l'area se vogliamo che ci riporta la storia anche per quanto riguarda gli interessi che furono della sublime porta e cioè di Istanbul e anche dell'Austria-Ungheria insomma stiamo parlando di grandi imperi del passato che non esistono già da secoli e che però Turchi e Russi sono anche imperi del presente quindi lottano insieme a noi e lo dimostrano queste vicende la Turchia la Turchia ha una vocazione imperiale che ha dimostrato appunto molto recentemente soprattutto nella vicenda libica che è stato forse il primo vero grande ingresso importante di Erdogan nella grande scacchiera internazionale e anche la ragione Siria-Libbia Siria la Gornocara Balcani però il vero grande ruolo ha un ruolo di interposizione rispetto a alcuni grandi paesi arabi nel gioco delle coppie con Israele e con l'Egitto però lì in Libia è la prima volta che c'è l'intervento determinante che noi abbiamo dimostrato di aver sottovalutato in maniera energica da cui dipende anche la nostra straordinaria dipendenza energetica dalla Russia perché la partita libica l'abbiamo proprio persa dai radar ne abbiamo smarrito il senso e in un momento in cui non capivamo dove dovevamo stare se con colui che era dato per vincitore Khalifa Haftar o con l'altro governo i turchi sono entrati e hanno rubato quello spazio di agibilità politica che avevamo noi peraltro portando quei mercenari che Putin vuole portare in Ucraina sa già portare quelli siriani soprattutto ma non solo attenzione la Turchia non solo confina con l'Italia non ce ne andiamo contro la Turchia confina con noi letteralmente in Libia la Turchia sta modernando le forze armate albanesi per chi ci ascolta l'Albania e la Libia sono i due paesi più importanti al mondo per il nostro a caso gli italiani ovviamente se ne infischiano ma non ce n'è nessuno di più importante e in entrambi i paesi domina la Turchia che peraltro nel resto dei Balcani non è esattamente secondaria basta solo andare in un paese balcani e accendere la televisione quindi per il soggetto la Turchia che a voce in capitola anche in Ucraina perché ha una visione di sé sovradimensionata cioè i turchi credono che il loro mondo esista dalla Tracia fino al Xinjiang cinese che è il turco estano orientale cioè parliamo di queste grandezze e qui la Turchia sta determinando forse almeno per il momento sì con i propri droni anche la guerra in Ucraina e continua a raccontarsi come mediatore perché vuole evitare quello che raccontava anche Francesca cioè che i russi si prendano tutto il litoraneo tutta la litoranea tutto il litorale dell'Ucraina e uno dei punti cruciali è proprio il mare del nord che è il mare su cui si affacciano proprio i paesi di cui stiamo parlando la Russia l'Ucraina finché potrà affacciarsi perché abbiamo visto la situazione del sud del paese proprio della costa di Odessa e la Turchia che l'abbiamo detto migliaia di volte in questi 24 giorni ha le chiavi di ingresso da sud dal Mediterraneo del Mar Nero dalla Crimea che è la postazione avanzata che è la piattaforma che sta sul Mar Nero ci parla ad ogni evidenza anche questa sera Luca Steinman è così? Noi lo vediamo spero lo vediate anche voi perché sennò sembra che sto parlando da solo ecco lo vediamo però come vedete il collegamento ha qualche piccolo problema però mi è parso di capire che dalle immagini che vedevo sia pure in interni e ancora a Sinferopol in Crimea dove l'abbiamo visto ieri sembrava allo stesso luogo eccolo forse vediamo se adesso si sta perfezionando il nostro collegamento non c'è niente di male noi lo stiamo vedendo lo vedete mi senti Luca? Buonasera direttore Allora sei ancora a Sinferopol devo dedurre Sì sono in un angolo in cui spero che la connessione funzioni un po' meglio rispetto al solito e ci sto provando ecco qua Allora aggiornaci Allora innanzitutto oggi siamo andati sul mare per cercare di documentare quella che è un po' la notizia del giorno sul piano tattico da queste parti ovvero che i russi abbiano conquistato tutta la costa lungo il mare da Zov con l'eccezione dell'area urbana di Mariupol che è ancora contesa questa è una notizia che è stata data che è stata confermata dallo Stato Maggiore Ucraino e quindi questo diciamo conferma quello che abbiamo già detto in alcune delle scorse puntate ovvero che i russi stiano massicciamente concentrando le proprie forze armate su questo lato di costa per poi cercare di sfondare sempre più verso Occidente puntando verso Odessa e poi verso il confine con l'Ucraina da lì per poi dicono alcuni eventualmente provare a risalire verso nord lungo il confine rumeno mettendo eventualmente sotto pressione anche la città di Leopoli quindi questo è uno scenario che è stato che non è stato molto discusso sul piano militare tattico da noi negli ultimi tempi ma di cui si è sentito parlare difficile valutare se sia uno spauracchio che i russi vogliono mettere in giro appunto per mettere paura al nemico però ecco ci sono delle notizie che stanno iniziando a circolare detto questo ecco vediamo la cartina Mariupol rimane l'unica città l'unico centro sulla costa sull'Ucraina che si faccia su Mareta Zov dove ancora c'è una rilevante per esempio Ucraina ma la città è circondata in maniera molto importante è sotto i bombardamenti e dobbiamo sottolineare assolutamente che abbiamo notizia dell'ingresso dell'esercito russo in diversi quartieri centrali della città fino alla al viale della vittoria Paveda Street dove sono in corso dei combattimenti dei confronti appunto tra i resistenti ucraini e gli incursori russi Allora Luca si sente abbastanza bene cercheremo però adesso perché tra pochi secondi andiamo in pubblicità di perfezionare ancora il collegamento così in questi 3-4 minuti di pubblicità magari riusciamo anche a farci a ricevere delle tue immagini su quello che avete girato oggi e poi parliamo ancora di questa che forse è una delle battaglie anche se non è tecnicamente solo una battaglia ma una delle fasi e delle zone cruciali di questo conflitto ci fermiamo eccoci ancora entriamo nell'ultima ora di questo nostro speciale così così intenso eravamo collegati non so se siamo ancora collegati ma stiamo per tornare eventualmente a farlo con Simferopol in Crimea con Luca Steinman e la situazione da lì di cui ci parlava di cui ci parlava Steinman è quella della zona della costa dell'Ucraina che dà sul mar Dazov che è quasi tutta sotto diciamo il Donbass sotto correggimi se sbaglio sotto quella zona soprattutto della Repubblica autoproclamata di Donetsk che sappiamo essere contesa anzi rivendicata apertamente dalla Russia e rivendicata anche in vista di possibili negoziati dall'Ucraina e lì si combatte la vera fase importante di questa guerra che comporta il controllo delle coste sul mar Dazov ma anche sul mar Nero Sì direttore per i russi è fondamentale il controllo di quella di quella fetta di quello spicchio di terra che si affaccia su quel piccolo mare sul mare Dazov soprattutto per quanto riguarda la proiezione verso il Caucaso dove come sappiamo c'è una forte competizione tra i due imperi che si contendono l'influenza su questa regione quindi il piccolo russo e quello e quello turco quello appunto di Erdogan che da un anno e mezzo a questa parte vivono in questa situazione di convivenza forzata nel controllo Caraba quindi a ritorno tra Armenia e Azerbaijan ed ecco dato che la Turchia sta intervenendo in maniera importante in questa guerra nella guerra in Ucraina fornendo materiale bellico molto strategico soprattutto in termini di droni in Ucraina ebbene da parte russa c'è molta la paura che l'influenza turca possa crescere in questa regione e nel Caucasus attraverso questo conflitto quindi per Russia è fondamentale avere un massiccio di spiegamento di forze nella fetta di mare che collega Mariupol con la federazione russa e che in generale su tutta la costa che si è facciata sul mare d'Azov anche in proiezioni future quindi possiamo in qualche modo iniziare a vedere anche dei disegni strategici sul piano geopolitico dell'orso russo in funzione del controbilanciamento della potenziale crescita di influenza turca nella regione Non dimentichiamo che la Crimea è stata sempre strategica noi abbiamo sempre tante volte ricordato quella guerra a cui partecipò la prima guerra internazionale a cui partecipò anche quello che sarebbe stato in qualche modo una parte delle forze armate italiane il bersagliere di la marmora anzi fu la partecipazione a quella guerra che diede il via la possibilità di essere accettato a livello internazionale la nascita di uno stato italiano e ancora più importante evocativo a livello internazionale è che ci fu la famosa battaglia di Balaclava la carica dei 600 un episodio bellico che in Gran Bretagna è citato tantissime volte ma in ogni caso al di là di questo la Crimea è elemento importante dal punto di vista strategico qui in questo momento è soprattutto osservatorio avanzato ci sono anche delle immagini che penso ci avete mandato tu e il tuo non dico operatore ma fotografo il tuo alter ego in questa missione sulla guerra sulla guerra d'Ucraina e non so se possiamo vederle stiamo stiamo per averle quasi pronte a cosa si riferiscono le immagini che vedremo si riferiscono fondamentalmente alla massiccia presenza militare russa lungo questa costa sono immagini che abbiamo raccolto nell'arco diciamo ecco no questa qua è una strada della Crimea che abbiamo raccolto oggi probabilmente quelle che stiamo mandando non sono un po' arrivate ma diciamo abbiamo dato una carrellata di immagini che ricordano appunto la massiccia presenza dicevo di militari russi e di forza speciale russi lungo questa costa non soltanto in Crimea ma anche lungo la costa di Paripol per ricollegarsi per far sì che la presenza militare in Crimea si possa ricollegare con le truppe che stanno assediati in queste ore qui vediamo un tratto di mare innegabilmente speriamo che sia riferimento che siano le immagini tue non ci sia stato un depistaggio da parte di qualcuno abbiamo visto delle onde delle onde che sembravano in realtà oceaniche increspate molto molto increspate tra l'altro diciamolo diciamolo perché noi poi siamo portati a pensare sempre che sia siccome siamo alle soglie della primavera due giorni della primavera in Italia noi pensiamo che sia primavera ovunque voi siete stati di fatto bloccati dalla neve oggi in parte della vostra missione quotidiana no? Sì volevamo andare agli alta questa mattina a proposito di riferimenti storici non siamo riusciti a riferirci fisicamente perché c'era veramente una mafera che sta segnando un proseguimento dell'inverno in questa regione molto freddo e molto rigido che certamente non aiuta poi anche l'umore di chi combatte perché insomma le azioni sono molto rigide sono molto difficili e quindi ecco non è facile affrontare dei cittadini in questa fetta di territorio sottolineerei anche un'altra grande difficoltà che i soldati sia russi che ucraini incontrano andando diciamo da Maripol verso nord verso Tegnetsk ovvero il fatto che i territori sono estremamente bassi si combatte proprio nella steppa come abbiamo cercato di far vedere le immagini dei giorni scorsi e quindi è difficilissimo per entrambi i fronti partire da una posizione di vantaggio sia per chi attacca ma anche per chi difende gli eserciti si affrontano veramente in maniera frontale le due fanterie si affrontano in maniera frontale e quindi vince di fatto chi ha la meglio nei combattimenti corpo a corpo e questo poi ci fornisce anche delle spiegazioni sul perché poi l'avanzata russa che pur procede ma sia così lenta e sul perché poi le distruzioni siano anche così massifiche perché non bastano i bombardamenti non bastano i droni ma bisogna proprio entrare con gli incursori nelle città e nei villaggi per battere corpo a corpo e per cercare di spegnarli troppo le immagini che abbiamo fatto vedere i giorni mostrano distruzioni oppure proprio per questo Fabri è evidente che questa parte della guerra avrà poi un valore fondamentale anche se noi guardiamo a Kiev guardiamo a Leopoli siamo attenti ad altre zone ma è lì che si combatte la partita più importante lo raccontiamo da molti giorni è probabilmente la parte più strategica quella anche più razionale di tutti i movimenti russi sul territorio dal momento che visto lo stato della guerra l'assedio di Kiev non ha massima razionalità almeno non dovrebbe avere massima priorità così anche le altre operazioni che vediamo disseminate sul territorio la parte dell'offezia meridionale è senza dubbio quella più razionale più conseguenziale quella che toglierebbe lo sbocco al mare totalmente all'Ucraina ad un'Ucraina futura messo che questo poi possa essere sostenibile in qualsiasi accordo di pace non può esserlo perché non è che si può trovare un negoziato in assoluto senza alcun sbocco sul mare ma ha certamente una sua razionalità lo ricordavamo anche prima se la Russia avesse voluto veramente annichilire definitivamente l'Ucraina doveva cingerla dal mare e poi sul confine occidentale molto più che sul proprio confine orientale perché lì cingerla da da se stessa sul confine occidentale i russi non ci sono per niente infatti questo consente l'approvirginamento di veterani addestratori armamenti che tiene ancora in vita ampiamente la resistenza ucraina sul mare si stanno muovendo in maniera più razionale però molto lentamente in fondo Mariupol quanti giorni sono almeno due settimane che la si dà sotto assedio e che a fronte di indicibili sofferenze tra la popolazione restano sotto assedio quindi l'avanzata è molto lenta ma come diceva anche lei è la parte più rilevante dell'offensiva russa almeno fino ad oggi allora Francesca secondo te il fatto che la parte di cui stiamo parlando della guerra si combatta in zone che sono in gran parte nella massima parte russofone sposta in qualche modo la sostanza di questo conflitto nel senso che in realtà noi siamo abituati a vedere conflitti tra nazioni che riguardano evidentemente storie popolazioni culture lingue qui è in qualche modo una guerra che si sviluppa nella parte dell'Ucraina che parla russo si e rischia di essere un boomerang perché rischia di un assedio ha sempre oltre naturalmente è superfluo sottolinearlo la quantità di dolore vite umane costi anche in termini appunto della vita urbana dell'architettura urbana della città un assedio alimenta la macchina narrativa della vittima e questo la storia degli assedi lo racconta e Putin e i suoi uomini non potevano non aver considerato questo aspetto o meglio stupisce che non l'abbiano evidentemente considerato perché porre una città sotto assedio e Mariupol è una piccola importante ma piccola città porre una città sotto assedio significa un assedio che può durare quanto? un mese due mesi tre mesi e una città si piega significa per un mese due mesi o tre mesi alimentare la portata evocativa della vittima che diventa eroe e questo in un paese che sta dimostrando una resistenza così solida rischia davvero di essere un boomerang sì questo è ben comprensibile assolutamente ben comprensibile tra l'altro poco fa da parte della Russia si è dato conto di una serie di obiettivi militari raggiunti tra cui il fatto di aver centrato e distrutto 200 più di 200 droni 201 e di avere distrutto 1443 tanks ucraini oltre ad altri veicoli militari è quanto comunica ufficialmente l'esercito anzi il ministero della difesa di Mosca sono numeri molto pesanti ovviamente sempre secondo quanto riferito al ministero della difesa russo gli aerei militari russi hanno colpito 59 strutture militari in Ucraina solo nella giornata di oggi aerei operativi tattici e dell'esercito hanno colpito 59 strutture militari ucraine nelle ultime 24 ore è proprio quanto ha detto lo vedete il portavoce del ministero della difesa russo Igor Konashenkov in una conferenza stampa sì numeri importanti ma non si tratta ovviamente del KO i droni 200 droni sono tanti ma la dotazione turca di droni assegnati all'Ucraina sono molti di più a parte che questi sono numeri gonfiati come sempre insomma siamo in un ambito di propaganda esiste la propaganda ucraina la conosciamo bene conosciamo anche quella russa evidentemente soprattutto questi sono numeri da inizio guerra cioè mi spiego sembra un bollettino dall'inizio che segna l'inizio delle operazioni cioè siamo molto dovremmo non siamo in realtà dovremmo essere molto più avanti di così rispetto ai russi cioè un bollettino che racconta di droni distrutti che dovevano essere essenzialmente esauriti due settimane fa cioè la russia doveva essere in grado di distruggere la flotta di droni in Ucraina già dopo dieci giorni al massimo dall'inizio dell'operazione è vero che viene rimpinguata proprio perché non sono stati in grado di sigillare il frotto occidentale però allo stesso tempo si immaginavano tutti che la russia fosse più avanti questo tipo di bollettino peraltro magnificato gonfiato come sempre come tutti i bollettini nei suoi numeri segnala una guerra che è indietro indietro rispetto agli obiettivi che si era prefissata la russia lo dicevamo anche qui più volte ad oggi per quanto ci risulta il cielo ucraino non è contestato come si dice tecnicamente cioè c'è un domine assoluto della russia soltanto di notte di giorno vola un po' di tutto in ucraina e al confine dell'ucraina è ancora peggio o ancora meglio fate voi dipende l'italia si divide per tifi quindi insomma intendiamoci ci sono aerei della nato che lambiscono puntualmente il confine con l'ucraina lo sappiamo anche noi c'è stato anche un comunicato delle nostre forze armate al riguardo quindi questo bollettino per farla breve chiudere rappresenta una guerra quasi embrionale quando invece dovremmo essere molto più avanti nell'avanzata russa e nella distruzione della flotta in questo caso di droni ucraina c'è un altro aspetto vuoi dire qualcosa Steinman a questo riguardo? ma io condivido continuamente quello che è appena stato detto ovvero è una guerra di narrativa sia per la guerra di assedi e quindi le assedi alle grandi città non possono andare male alla narrazione di questo russo e sia per volte riguarda la detenze e la distruzione di gli amici insomma i russi si aspettavano tutta adesso sentiamo che lì si sta animando mi pare la sala da cui ci parli ho sentito un acuto ti stanno preparando la cena e allora ne approfitto per chiedere a Fabri a Dario Fabri qualcos'altro nei prossimi giorni l'iniziativa diplomatica si farà intensa fino al giorno decisivo giovedì in cui ci sarà nella stessa giornata a Bruxelles il vertice del G7 il vertice della Nato il Consiglio Europeo tutti e tre tra l'altro anche quello in cui non figurerebbe di diritto con la presenza del Presidente americano Biden sono questi cinque giorni che passano attraverso voglio ricordare ancora una volta il discorso di domani alla Knesset al Parlamento israeliano di Zelensky il discorso martedì mattina davanti ai parlamentari italiani sempre in videoconferenza ovviamente da Kiev dello stesso Presidente dell'Ucraina e poi appunto due giorni dopo la giornata più intensa e più importante per l'Occidente ci si sta preparando adeguatamente vedi l'allineamento dei pianeti che va nel senso giusto? Bisogna stabilire qual è l'obiettivo nel senso se l'obiettivo è intervenire militarmente in Ucraina contro la Russia no non c'è non è alle viste non è immaginabile qualcuno me compreso non lo auspica nemmeno significherebbe veramente per salvare questo sarebbe ultramodo legittimo la popolazione ucraina significherebbe poi portare la guerra e stendere a livello planetario se non nucleare ed è drammatico ma è qualcosa che finora tutti i governi occidentali compreso il nostro ma soprattutto quell'americano hanno sempre negato di voler anche soltanto discutere un po' diversa la posizione polacca lo ha ricordato anche Lavrov quest'oggi se questo è l'obiettivo non sarà sciolto salvo incredibili sorprese questa settimana io credo che si discuterà di come sta andando la guerra sul terreno di come indirettamente l'Occidente sta partecipando fortemente alla guerra questo sì con armamenti con le sanzioni con la propaganda stessa anche con una certa rigidità che discutiamo in tutti i paesi dell'Occidente insomma comprensibile in questo momento per quanto riguarda anche segnare un discrimine tra le posizioni a livello di opinione pubblica di questo si discuterà di quali misure adottare andando oltre credo ci sia anche la volontà da parte americana per questo poi Biden arriva in Europa non solo di segnalare una vicinanza geografica quindi di prossimità all'Ucraina io non escluderei in quei giorni di solito capitano queste cose un viaggio a sorpresa non in Ucraina di Biden non arriverei mai a questo ma ad esempio poco fa Poroshenko l'ex presidente ucraino proprio questo ha consigliato a Biden di andare di visitare Kiev che sarebbe ovviamente oggi non è immaginabile non escludiamo niente perché da noi ho visto che Poroshenko ha definito poi un pazzo scatenato Putin diciamo l'invasione non ha certo ci fa certo scoprire Poroshenko che non è mai stato tenero in questo senso e soprattutto è un nazionalista ucraino molto noto che ha le sue posizioni anche legittime in questa vicenda per quanto riguarda Biden io direi io mi immagino un viaggio a sorpresa non ne ho idea ma che può essere in Polonia ad esempio comunque in un paese limitrofo non lo vedrei in Ucraina ma libero di sorprenderci o potrebbe fare come Blinken al confine al confine con Culeva le dice in quel caso non vedo Zelensky viaggiare in questo modo però al confine sì perché no comunque non sarebbe questo decisivo potrebbero decidere giovedì anche un gesto ma no però non sarebbe un viaggio decisivo quello di Biden credo che si discuterà di come stanno andando l'operazione e che altro si possa fare oltre all'avvicinanza geografica che altro si possa fare in favore dell'Ucraina questo sì e segnalare poi da parte americana un fronte che deve rimanere serrato cioè non ci possono essere smarcamenti perché più la guerra prosegue anche se a noi possiamo sembrare controintuitivo più gli smarcamenti sono possibili più emergono i distinguo però è ora di farla finita tanto è una guerra che non si può risolvere eccetera a me pare che gli americani invece ne ho scritto anche in questi giorni abbiano un'intenzione di condurre la guerra per procura oltre il tempo comunque di non consentire una vittoria russa che possa essere definitiva anche perché sul campo non si registra penso che Biden venga in Europa anche per questo per dire agli alleati cioè ai soci ai clientesi in senso latini europei non è possibile in questo momento tirarsi indietro i russi non la possono vincere così se non dissanguandosi penso che l'evento sia questo cioè sia proprio il viaggio più che tutto il corredo il viaggio di Biden in Europa cosa si teme secondo te Luca Steinman che in queste settimane hai bene imparato a conoscere ancora di più non è la prima volta che vai in quelle zone i russi cosa temono di più dal punto di vista diplomatico i russi se temono qualcosa sicuramente l'isolamento sicuramente l'incapacità di poter accedere al resto del mondo che non sia il proprio quindi le rotture diplomatiche commerciali ma andando anche diciamo a fondo nella popolazione insomma la rottura di tutti quei punti di tutti quei collegamenti formali e diplomali che ci sono con l'Occidente che ci sono con il resto del mondo e che i russi ritengono essere soprattutto quando si guarda appunto verso l'Ovest la maggior parte soprattutto dei giovani russi dei ragazzi russi insomma ha una proiezione naturale verso popolazioni verso i propri quei danni dell'Europa orientale dell'Europa ma anche degli Stati Uniti quindi ecco il fatto di rimanere isolati il fatto di non poter più accedere alle stesse persone virtuali il fatto di non poter più condividere dei rapporti lavorativi perché non c'è la possibilità per i pagamenti è una cosa che si parmetta molto e ti lascia l'amore in bocca e questo naturalmente poi si proietta anche sul piano più alto ovvero che classe dirigente può sviluppare in bosca in futuro e verso che direzione deve essere formata questa classe dirigente vogliamo una classe dirigente orientata verso l'Occidente quindi fondamentalmente che parli inglese oppure dobbiamo puntare più su lingue su altre lingue l'arabo quindi per rafforzare la presenza russa in Sire e Medio Oriente il cinese per rafforzare i rapporti verso l'Oriente quindi ecco sono domande che si sentono e che sono un motivo di risoluzione sia ai piani più alti insomma di classe dirigente ma poi anche tra i ragazzi tra i giovani giovani uomini e donne quindi ecco vedo molta incertezza per il futuro perché c'è a dire che in molti pochi si aspettavano che Putin sarebbe andato così a fondo e che avrebbe portato a una guerra così su vasta scala Francesca diciamo quello che dice Luca conferma un po' la lettura del video di Putin che abbiamo cercato di dare prima senza altro ma anche se posso aggiungere questa presenza europea che in vari scenari si è dimostrata in questi anni una presenza da attore non protagonista cioè paradossalmente questa guerra sta ridando una centralità sta ricompattando l'abbiamo detto tante volte la politica estera occidentale ma quello che racconta Luca per esempio sull'interrogarsi che lingue nuove deve parlare la diplomazia questo in questi anni l'abbiamo raccontato abbiamo cercato di raccontarlo in molti scenari in cui l'Europa l'Italia principalmente meno la Francia per molte ragioni è passata da giocare un ruolo da appunto attore protagonista a comparsa l'abbiamo visto molto in Nord Africa ne stiamo ancora pagando le conseguenze e evidentemente questo è anche una cartina al tornasole per gli errori che sono stati fatti dall'Europa in passato e che forse l'Europa sta dimostrando di non voler ripetere Fabri c'è un altro aspetto la Mariupol la battaglia sul Mar d'Azov accanto alla Crimea e al Mar Nero là c'è una delle più grandi acciaglierie d'Europa la Azovstal c'è ci sono interessi strategici di vario tipo questa è una guerra che sta tenendo conto di questi aspetti in cui gli attori e chi osserva e osservatore interessato tiene conto di questi aspetti o è la classica guardiamo queste immagini The Guardian che si riferiscono proprio guardiamo a tutto schermo che si riferiscono proprio a oggi a Mariupol guardate che cos'è Mariupol oggi soprattutto soprattutto Francesca Mannocchi che conosce quelle zone che ci ha parlato da quelle zone stiamo vedendo ecco abbiamo visto nel caso di dire rivediamo queste immagini e in realtà noi stiamo parlando di una guerra devastante che ripeto però ha anche delle valenze economiche immaginate del resto per il vincitore che cosa sarà la ricostruzione post bellica e se il vincitore non dovesse essere la Russia pensate lo sforzo internazionale e anche gli interessi internazionali in ballo ma tutto questo che comporterà ovviamente un freno per molte attività imprenditoriali per molta parte della struttura industriale di due paesi perché riguarda sia l'Ucraina sia la Russia come impatterà sulla situazione e qualche rischio lo corre anche la Russia rischio economico dice lei indotto non solo quello delle sanzioni noi abbiamo parlato sempre del rischio delle sanzioni ma c'è qualche rischio ulteriore che deriva proprio dalla gestione della guerra i rischi in una guerra sono ovunque quindi certamente ci sono anche questi anche se adesso non sono quelli primari prioritari per la Russia evidentemente diciamo che l'aspetto economico in una guerra così è secondario non che non esista attenzione ma è certamente secondario la Cina ad esempio che è un attore di cui abbiamo discusso in questi giorni guarda l'Ucraina come a qualcosa che le appartiene non solo perché è la prima parte nel commerciale del paese ma in questi anni ha effettuato numerose operazioni quello che si chiama land grabbing cioè si è presa la Tifondi e lo utilizza per poi sfamare la sua popolazione e considera peraltro l'Ucraina uno degli snodi delle vie della seta quindi la Cina guarda ciò che sta succedendo perché immagina nel caso ad esempio in cui ci fosse da ricostruire che una fetta potrebbe toccarle lo guarda come un'opportunità ma anche come una preoccupazione evidentemente c'è senza dubbio questa dimensione un po' meno da parte russa perché poi l'Ucraina è un paese talmente povero che ha industrie vetuste e che soltanto nel comparto militare è veramente peraltro integrata ancora con l'industria russa al comparto militare per l'Ucraina ampiamente per il resto non è che ci sia granché lo stesso bacino carbonifero quello del Donbass sì ha ancora il suo ruolo da quelle parti ma non è spendibile in assoluto come asset come si dice in questi casi quindi la dimensione economica possiamo dirlo che in questa guerra è secondaria questa è una guerra che si inserisce essenzialmente nelle due dimensioni classiche della psicologia collettiva russa altro che guerra di Putin ma ne abbiamo sentite di questa roba qui che sono l'insicurezza assoluta che è tipica della psicologia russa cioè credere che lo stato cuscinetto sia tutto altrimenti non si sopravvive perché di invasioni ne hanno avute moltissime e l'altra dimensione che si unisce a questa la sovradimensionata idea di sé che i russi hanno da sempre che li spinge ad essere o siamo superpotenza o non siamo o siamo un grande impero o non esistiamo questa guerra si inserisce in questa psicologia collettiva più che in qualsiasi affare economico in un paese peraltro molto povero dopo la pubblicità che incombe Francesca Mannocchi so che ha isolato delle immagini che arrivano da subito fuori il teatro di guerra ma che sono molto eloquenti a tra poco Allora con la nostra Francesca Mannocchi vorremmo vedere delle immagini che sono significative prima di vederle ci spieghi che cos'è e perché è importante quello che stiamo per vedere Allora quello che stiamo per vedere sarebbero e recita così la notizia ci sarebbero così tanti soldati russi morti e feriti nella regione di Omen in Bielorussia che questi mezzi che stiamo per vedere porterebbero i cadaveri sposterebbero i cadaveri russi in Bielorussia ma di notte per non attirare l'attenzione e questo rientra direttore naturalmente in quei pezzi di regole non scritte della guerra che abbiamo imparato a conoscere nei secoli che non si devono far vedere le perdite che non si devono far vedere i cadaveri se posso aggiungere neanche per celebrarli e in questo senso questa guerra è anomala rispetto ad altre guerre che abbiamo raccontato perché anche i funerali sono molto meno celebrati di quanto non lo siano stati in altri conflitti questi mezzi con la V che vediamo sarebbero appunto mezzi che nottetempo per non attirare l'attenzione porterebbero in Bielorussia decine se non centinaia di cadaveri dei soldati russi morti sul fronte vedete un effetto spiazzante veniva da quella immagine di quella riproduzione del Colosseo che c'è là sullo sfondo evidentemente è un locale un'attrazione che qui c'è poco da attrarre in questa fase e un'altra cosa che non faccio finta di non vedere perché l'avrete vista tutti è che queste immagini ci richiamano molto sinistramente alla memoria Bergamo il 18 di marzo del 2020 cioè le immagini purtroppo dei camion militari che trasportavano le bare si trattava di un'altra guerra quella è contro il Covid però tornando a ciò che stiamo vedendo Francesca stiamo parlando probabilmente quindi di tante tante vittime che vengono da una zona che non è quella più illuminata dalle cronache non è pensabile che facciano molte centinaia di chilometri per andare lì abbiamo due dati per citare delle fonti che riteniamo certe attendibili naturalmente le Nazioni Unite le Nazioni Unite in questi giorni hanno parlato per esempio di circa 850 870 vittime civili accertate sottolineando quanto naturalmente questa cifra sia a ribasso abbiamo avuto alcune alcuni lampi di immagini di fosse comuni purtroppo se ci sarà una verità su queste fosse comuni noi la sapremo a conflitto finito o congelato ugualmente i numeri sulle vittime tra le forze ucraine e quelle russe sono lontani dalla verità in un caso e in un altro aggiungiamo a proposito delle Nazioni Unite l'ultimo dato che ci ha raggiunto mentre eravamo in pubblicità e cioè il dato aggiornato sugli sfollati l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati l'UNHCR dice che a oggi è neanche un mese dall'inizio del conflitto sono 6 milioni e mezzo gli sfollati complessivi di cui 3 milioni e 3 gli ucraini che hanno lasciato il paese i profughi e altri circa 3 milioni 3 milioni e mezzo gli sfollati interni rivediamo quella immagine e quella notizia della TAS che vedevo nel monitor di servizio che si riferisce al fatto che secondo il Washington Post e lo cita la TAS significativamente l'Occidente considererebbe poco chiara la posizione dell'Ucraina nei negoziati secondo appunto il Washington Post alcuni paesi della Nato temono che Kiev faccia troppe concessioni è chiara che questa è la notizia proprio che non l'avevamo dato noi qualche giorno fa ma la TAS forrebbe leggere ed è evidente che si può fare pressione come a dire 847 ecco questa è l'altra notizia delle agenzie delle Nazioni Unite 847 civili compresi 64 bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione questi sono i dati ufficiali sappiamo che Zelensky e le autorità ucraine parlano di numeri più alti se pensiamo ai 109 passeggini che abbiamo raccontato ieri a Leopoli già questo ci dimostra quanto i numeri siano al momento oltre che oggetto di narrazioni diverse anche impossibili da verificare sì anche qui infatti voi pensiate appunto quelle stesse immagini che abbiamo visto pochi secondi fa i pullman militari che portavano feriti morti non lo sapremo non lo sapremo mai verosimilmente sappiamo per certo che in Ucraina l'abbiamo chiesto ai colleghi che hanno lavorato con noi nelle scorse settimane che moltissimi funerali questo capita spesso diciamo in paesi in cui si combatte si stanno celebrando in assenza del corpo del caduto questo ovviamente accade su larghissima scala tra le fila delle forze di resistenza delle unità territoriali e dell'esercito ucraino immaginiamo che stia avvenendo lo stesso dall'altra parte su Washington Post invece secondo me vale la pena spiegarlo brevemente quando i quotidiani americani mandano questi segnali ricordiamo i quotidiani americani appartengono ad una grande potenza noi da qui abbiamo una visione un po' da telefilm dei quotidiani americani quando mandano questi segnali è perché stanno comunicando direttamente con in questo caso il governo ucraino insomma ci riconoscerete che siamo giorni che lo andiamo dicendo cioè se c'è una parte del negoziato molto presente è quella americana ed è una parte come raccontavamo da alcuni giorni che è preoccupata delle concessioni che più o meno legittimamente è difficile mettersi nei panni del governo ucraino in questo momento ci vuole comunque rispetto visto ciò che sta succedendo che più o meno legittimamente stia dal punto di vista americano accettando forse troppo delle richieste russe perché la bozza che diffonde il Financial Times così a meno che ci segue capisce come funzionano un po' queste cose è stata certamente inizialmente discussa anche dagli ucraini è stata diffusa il Financial Times per segnalare a Kiev che stava concedendo troppo ai russi sono inglesi il Financial Times quindi niente di più antirusso possa esistere al mondo a quel punto ricorderete il governo ucraino è corso ai ripari dicendo beh no ma quelle sono soltanto le richieste russe è arrivato dopo questo tipo di messaggio che è arrivato con una scelta opposta è identico cioè sono gli americani che dicono a Zelensky non ti piegare troppo perché noi ti diamo 800 milioni di armamenti ci stiamo spendendo per te il nostro obiettivo è non far vincere la Russia se tu a fronte di una guerra che stanno più o meno conducendo malino i russi dai loro tutto ciò che chiedono non ci siamo e qui un asterisco e chiudo sì però nel frattempo i morti ci sono la popolazione ucraina estremata e credo che la posizione di Zelensky meriti se è quella che gli americani tentano di smussare o almeno meglio di irrigidire credo che meriti comunque rispetto e vantano anche un credito perché se c'è stata come c'è stata evidentemente una ristrutturazione delle forze armate ucraine lo si deve all'aiuto che non arriva oggi ma arriva da gli ultimi 8 anni però questa notizia si è confermata che arriva per l'altro per via traversa ma segnala il Washington Post è molto importante questo è il negoziato dentro il negoziato è raro trovare una notizia più importante di questa in un momento così che però sempre scusate con gli Stati Uniti che sarebbero comunque gli ultimi a patire gli effetti sociali delle conseguenze di questo conflitto penso alle migrazioni ne abbiamo dato i numeri come prima conseguenza parallelamente a quelle economiche non esistono in Europa allora Luca Steinman vorrei completare il quadro con te si dice da più parti che la battaglia per il controllo del mare da Zoff quindi della sponda nord quella che appunto è fino a oggi carta politica alla mano Ucraina parte Ucraina sia la vera partita che si può giocare in tempo prima appunto delle giornate delle trattative diplomatiche perché la finestra diciamo militare prima che la diplomazia si imponga arriva fino a giovedì poi ci sono le grandi riunioni internazionali di Bruxelles e di lì in poi due strade possibili o si va verso il negoziato o si va verso la guerra totale lì come la vedi quello che hai visto finora che cosa ti fa ritenere che sia a portata di mano la conquista totale della sponda nord del mare da parte russa oppure no? Allora la sponda del mare d'Azov a parte come dicevamo la città di Mariupola è già stata completata io vedo però due elementi di grande criticità per quanto riguarda il fronte russo che in parte sono già stati citati prima il primo è appunto la reazione delle popolazioni russofone di questa regione ovvero la spaccatura che stiamo riscontrando sia sul lato del Donbass ma sia sul lato in cui troviamo adesso quindi sul lato meridionale dell'Ucraina entrando dalla Crimea spaccatura che divide come abbiamo raccontato nei giorni scorsi le popolazioni russofone locali e poi adesso siamo ancora diciamo in una situazione di battaglia quindi priorità di tutti è portare a casa la pelle al di là di un'opinione politica di un'opinione ideologica ma poi bisognerà vedere nelle prossime settimane nei prossimi mesi qualora la Russia mantesse un controllo perenne o comunque stabile sul territorio come poi riuscirebbe a attirare queste persone all'interno del proprio sistema e come riuscirebbe invece a indebolire le eventuali resistenze anzi le reali resistenze che ci sono quindi questo è un punto assolutamente fondamentale che si collega poi anche con la necessità di creare una classe dirigente eventualmente russofila in questa regione il secondo punto è l'arretratezza dell'armamentario russo che stiamo riscontrando ecco fino a tre giorni faremo nel Donbass e ci rendevamo conto che e le immagini lo dimostrano insomma che i carri armati utilizzati dalle milizie popolari quindi insomma dalle milizie delle autoproclamate repubbliche fosse piuttosto desueto ecco sicuramente non si trattava di ecco di carri armati e di mezzi militari pesanti all'avanguardia ma anche venendo qua a sud in Crimea non ci stiamo imbattendo solo ed esclusivamente in queste colonne lente di pesanti carri armati che si muovono dalla Crimea verso l'Ucraina che sono assolutamente anche loro non all'avanguardia e che poi facendo anche due calcoli tattici con persone esperte in questo settore insomma beh ci dicevano tutti che qui basta un drone per andare a colpire un'intera colonna un'intera fila di tank che avanzano perché immaginiamoci di nuovo queste pianure appunto senza colline quindi estremamente facili da colpire su cui viaggiano lentamente questi carri armati sono obiettivi molto facili da colpire quindi mi stupisce come anche l'esercito regolare di Musca abbia un armamentario così poco all'avanguardia o perlomeno mostri di avere in questa regione un armamentario così poco all'avanguardia che non vuol dire che ciò non si possa tradurre in vittoria però è sicuramente un dato di fatto che mi ha fatto e ci ha fatto pensare infine voglio fare una domanda soprattutto evocare un argomento soprattutto per Fabri ma tutti ne siete a conoscenza abbiamo parlato più volte del convitato di pietra di questa guerra la Turchia e qual è l'interesse della Turchia non nel senso i propri interessi conosciamo che se dovesse fare il tifo Erdogan per cosa deve fare il tifo una guerra lunga o una vittoria della Russia o una sconfitta della Russia si deve fare il tifo Erdogan è una guerra mediamente lunga con sconfitta della Russia ma senza una grande vittoria dell'Occidente ammesso che esista in quanto tale l'Occidente un impero tifa sott'atto per sé così come gli americani tifano solo per sé i russi figurarsi eccetera l'obiettivo principale della Turchia lo abbiamo già raccontato è evitare che la Russia si prenda il litorale se lo prenda tutto perché questo sconvolgerebbe il rapporto di forza del Mar Nero ricordiamoci la Turchia ha ancora il litorale più lungo sul Mar Nero e ne controlla gli stretti ma è chiaro che a quel punto sarebbe quasi una divisione a metà non del tutto ovviamente ci sono anche altri paesi sul Mar Nero ma i due più importanti i russi e i turchi sarebbero quasi nella stessa lunghezza nel controllo delle coste non solo l'abbiamo già raccontato ma vale la pena ripetere la Turchia considera buona fetta dell'Ucraina propria chi ci ascolta può sembrare assurdo quando Putin racconta della Rus di Kiev che è l'unità protoslava che legherebbe in maniera sacra la Russia all'Ucraina puntualmente Erdogan che ha la stessa memoria come ogni impero lunghissima che hanno i russi ricorda che la Rus di Kiev fu distrutta da chi? dai turchi nel 1270 i tatari i mongoli distrussero la Rus di Kiev dispersero le popolazioni millerivoli e della ragione per cui gli ucranini non sono più russi da allora questo è qualcosa che i turchi hanno bene in testa e Maidan l'abbiamo già detto si chiama Maidan perché l'hanno portato i russi e la Crimea è abitata a tatari quindi che cosa vuole la Turchia? mantenere la sua influenza rinverdire il fatto che stanno vincendo la guerra se apriamo i media turchi c'è un florileggio di notizie in cui si racconta che la guerra gli ucranini la stanno A. vincendo B. grazie ai loro droni che non è un dettaglio nella loro propaganda C. che i russi non possono avere tutto il mare e ancora si immagina un effetto domino che qualora la Russia perda apra a una nuova influenza nel paese della Turchia che ripeto considera in buona fetta vicino a sé e di antica e storica influenza e immaginano poi quell'effetto domino che va da anche ai Balcani nella Libia che Francesca raccontava e così via la Turchia è un attore dentro con tutti i piedi con tutto il corpo e infatti che cosa fa come tutti i grandi imperi quando una grande potenza è interessata ad un dossier non sta combattendo direttamente lo capite da un segnale semplicissimo si offre per la mediazione diplomatica vuol dire che è dentro e vuole partecipare attivamente la Turchia per ora non partecipa a delle sanzioni contro la Russia e questo le consente di fare il finto mediatore voglio ricordare però scusa e che non vada allo scontro diretto nemmeno con la Russia come ha già dimostrato di non voler fare né in Siria né in Libia non nemici ma non amici e neanche nel Nagorno Karabakh e neanche nel Nagorno Karabakh quando si ritrovano gli uni davanti agli altri fingono di spartirsi beh insomma fare la guerra con la Russia non la vuole fare mai nessuno quindi i turchi sono comprensibilmente razionali però è vero l'atteggiamento è sempre lo stesso possiamo ricordare un'ultima cosa però ed è qui che vi porto a tutti Erdogan Recep Erdogan il capo assoluto della Turchia sarà a Bruxelles anche lui facendo parte della Nato quindi in realtà poi si tratta di una figura che può giocare molte parti in commedia ma soprattutto ha dei vincoli molto forti che sono proprio quelli militari ma ricordiamo perché la Turchia ha detto la Nato direttore i funzionanti russa all'epoca è funzionante sovietica ma adesso è soltanto perché altrimenti non ci sta distaccato e mai fa tutto ciò che vuole la Turchia è dentro la Nato fa tutto ciò che vuole c'è stato un periodo vent'anni fa in cui si parlava apertamente fu Sarkozy a frenarla di un ingresso della Turchia nell'Unione Europea per ragioni economiche non si erano innamorati dell'Occidente diciamo che in Europa pochi non entrano nell'Unione Europea per questioni economiche e allora dove sarai domani Luca Steinman ancora lì immagino a documentare la battaglia finale di Mariupol forse sicuramente saremo sulla costa dove esattamente non sappiamo ancora bene ma sicuramente dopo questa costa e invece non lo chiedo a Francesca Mannocchi che domani sarà qui alle 17 lo chiede a me no lei è convocato per le 17 è diverso e allora noi concludiamo stiamo per concludere qui è stata una giornata importante se ci avete seguito sapete perché lo sarà ancora di più se possibile quella di domani una domenica in cui lo speciale delle 17 inizierà magari un minuto prima perché secondo programma alle 17 comincia a parlare Zelensky alla Knesset il Parlamento di Israele e di lì in poi vedremo quali saranno le reazioni tra poco Edgardo Gulotta con il telegiornale ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.